benvenuti a take away 2024 anno nuovo stessa merda come sempre non ci rompete il cazzo berremo ci parleremo sopra fumeremo fa caldo l'hai già detto che ci parleremo sopra ci parleremo sopra sì giusto take away alla quarta puntata ospiti con noi san siro e bicocca ma quant'è che vi conoscete voi ma sai che in verità da poco da un annetto cioè sai da quell'annetto comunque ci ha legato tanto c'è la musica in verità io prima prima che lui spaccasse sinceramente non lo conoscevo però però poi quando ha spaccato fra cia comunque sai quando vedi che l'artista che si comunque mi sono gasato sentito le sue robe poi è finita che ci siamo beccati ci siamo beccati però prima proprio primo al primo colpo fra prima sessione abbiamo fatto top giro ci siamo andati a casa ci siamo beccati in studio da world se lo sbaglio tipo una sera che era dato a beccare e poi ci siamo beccati un paio di volte tra le serate le cose poi un giorno poi c'è un abisso bicocca san siro sono proprio lontane perché io sono vicino a te sai cosa è che poi anche cioè conoscendo poi tutti i ragazzi di san siro si vedono proprio comunque le differenze culturali anche anch'io ho notato questa roba il suo quartiere comunque vivono cioè hanno anche loro diciamo la loro cultura diciamo ogni quartiere c'è un po la loro micro cultura e vabbè comunque ti stavo dicendo a parte questo cioè ci siamo conosciuti per la musica e tutto quanto però comunque anche c'è umanamente bro il tipo per me è un grande comunque siamo sempre saldi su certe cose siamo soliti siamo saldi su certe cose siamo simpatici poi vi dico funzionate proprio insieme anche lui l'ultima volta che eravamo in studio insieme mi ha detto cioè ha detto più o meno sta roba che comunque ogni volta che ci becchiamo noi comunque cioè non per dire qualcosa veramente però esce qualcosa di di power fra diceva anche il tono della voce secondo me stanno bene proprio come tonalità le vostre due voci però poi anche una traccia che come stile ma poi anche sai cosa lui spacca quando che c'è la roba che tipo a volte c'è tipo l'urlato però sforzato non so se avete presente e poi a volte c'è il parlato quello basso e io uguale e quando ce l'alterniamo c'è il tipo il top g io proprio urlo e lui invece tipo sta bene secondo me quella roba funziona perché bilancia però raga fermi tutti dove cazzo sono le birre raga sì in effetti abbiamo nuova stagione cioè io stavo tipo per far così non trovavo niente c'è sta solo questa cioè ci volete ammazzare subito ditelo subito raga così vabbè un brindisi con quello non lo so se hai coraggio coraggio vai sta merda spacca sta merda si fa volare fratello inapribile tra l'altro cosa serve? fra pare brutto alzarmi riesci a volarla mi sa anche io bevo una non c'è una Red Bull sa chi spiega spiega bella la mela di essere eh fra perché siamo nei 40 giorni prima di Ramadan prodotta lo si può dire siamo in Shaban si chiama Shaban in arabo fra e la preparazione diciamo al Ramadan no? si sono i 40 giorni esattamente i 40 giorni prima di Ramadan e c'è stato in mezzo tu? quindi tu in questi 40 giorni capito sono come diciamo tra virgolette la preparazione si quindi non puoi bere alcol no niente ma quello non si potrebbe mai non lo vedi più però capito veramente a maggior ragione chi fa chi beve l'alcol in questo periodo cioè può anche non farlo Ramadan capito? perché l'alcol ti rimane no perché ti rimane nel sangue i 40 giorni basta basta invece il Ramadan proprio è una questione di purezza capito se tu devi essere lì proprio cioè tra te e Dio non so come sto capito si si per essere tra te e Dio ho capito si mi dispiace che mentre fai questo discorso siamo tra l'altro io col scarso successo stai trattando di aprire queste le bottiglie è congelata eh ce l'ho detto no vai tra vai tra però cioè non ti va non è un problema se se beviamo e tutto quanto anzi lo facciamo con rispetto si no facciamo il primo brindisi con i shot che è di regola con gli shot di sake? si allora va bene va bene meno male che non ho bevuto no no qua mi viene pure a birra double cincina capito come prima shot di sake lo devi fare anche per sake bro lo voglio si eh cosa ci devo fare? si oggi Arti bevete sicure per sake mannaggia comunque bro è figa sta roba che si sta creare in Italia dopo tanto tempo per fortuna e dico finalmente di multiculturalità nel rap in Italia figa vera vera veramente figa i ragazzi che veramente spaccano come vuoi ma poi ce ne sono cioè comunque ce ne sono adesso adesso che siamo usciti noi da quando sono usciti loro ha facilitato ma la musica in generale è sempre stata così però non in Italia ah si in Italia è arrivato molto dopo ma perché in Italia secondo me sai cosa? forse perché non c'erano non c'erano le persone giuste ancora non lo so secondo me è perché c'è stato il sud e quindi la molto cioè i kosang secondo me sono il vero come dire il vero movimento tra virgolette hip hop come viene visto quello black come viene visto magari quello in Francia in Inghilterra dici che sono loro che hanno portato la che comunque c'è quella differenza culturale quella differenza sociale quella differenza di posizionamento nel territorio che secondo me ha come dire ha quasi ha avuto il bisogno di dare la precedenza prima diciamo al sud al meridione e poi a quello che è arrivato da fuori infatti in Italia è quasi tutto così alla fine che c'è tipo il nord e poi il sud molti rapper del sud proprio come Yugi così che stanno uscita esatto esatto capito ma adesso ha vinto Sanremo cioè per me ha vinto Sanremo pure per me ha vinto Sanremo però dico rispetto poi a comunque le nostre le nostre grandi città soprattutto sono molto multiculturali soprattutto Milano da tanti anni oh cheers 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 scusatemi alla nostra take away alla prossima non sa che adarti arrasti scusatemi che ho fatto il sorso è abitudine dicevo le grandi città sono multiculturali ovviamente da tanti anni però serviva probabilmente anche del tempo no? questi ragazzi sono cresciti comunque in Italia dove c'è la tradizione già a livello di rap in un momento dove c'era e la loro appartenenza culturale e quindi anche i vostri riferimenti non so pensa alla Francia hai fatto già tanti featuring all'estero cioè pensa a quello dove per esempio già dagli anni 90 no? per esempio loro sono mega inseriti sì a livello multiculturale anzi la forza della Francia è stata la multiculturalità esatto com'è la forza dell'Italia raga io ne sono fermamente convinto sì 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 anch'io sentire Galli in arabo a Sanremo è veramente è una conquista anche Galli per me ha vinto la conquista culturale sì sì ha vinto è andato mega forte il pezzo è figo poi anche lì esatto alla fine finchè il messaggio secondo me anche lì Sanremo finchè il tuo messaggio passa però ah beh certo tu hai portato quella cosa di infatti è se il tuo messaggio passa poi se ne parli cioè e la musica anche quella fa passare un messaggio guarda per dire veramente Giuliaro quanto è stato molto più d'impatto di quello di Angelina Manco comunque a me la roba che la roba che mi ha colpito di sto Sanremo quest'anno che comunque cioè tutti hanno insistito proprio a portare il loro il loro messaggio non so come dirti esatto tipo Giuliaro ha portato quella roba lì che comunque è di Napoli il suo popolo e Angelina Mango ha portato comunque un messaggio di comunque di commemorazione tra virgolette anche al padre Galli ha portato un messaggio comunque per la Palestina ad Argent Amico chiarissimo a me è piaciuta tanto sta cosa che comunque tralasciando anche la musica che vabbè può piacere o non piacere sono comunque gusti a me piace proprio il concetto che hanno portato cioè dei messaggi che non sono messaggi da credo che questa roba sia un po' vittima dei tempi che viviamo banalmente cioè oggi è un momento dove bisogna dire qualcosa raga forse anche perché sai cosa cioè un musicista che abbia questa sensibilità poi capisco anche chi non se la racconti è vero da notare capisco anche chi non si esprime ci sta è giusto anche perché comunque c'è c'è bisogno secondo me prima di impattare su il problema cioè nel senso prima cioè stavamo parlando un attimo di gioielli cose no per esempio i diamanti non sono fissato perché sono della Sierra Leone un altro che si mette i diamanti cioè che proprio si riempie di diamanti è giusto perché culturalmente non ha quella roba lì dei diamanti non so come dire è un bel riferimento però non è che allora devo andare tra i diamanti c'è una storia orribile chiaramente esatto quindi però non è che devo andare io lo faccio presente dico magari dico ok questo è così non è che dico pezzi di merda allora voi dai una spiegazione al tipo che porta i diamanti io mi dico comunque tanto è una scelta così come vero ubriacarsi giusto nel senso di dire no io scelgo due mesi in cui mi dedico al mio corpo e lascio perdere vedi questa cosa è quella e pure l'anima perché l'è una purificazione di ogni cosa del corpo si è una purificazione più dell'anima che del corpo cioè esatto il corpo e anima eh sì perché comunque da un lato è una costrizione che ti dà una regola e devi fare delle cose che faresti nella quotidianità non le puoi più fare quindi il sacrificio ti porta sì è anche una cosa molto è spirituale quanto corporeo al di là del fatto che un salasto del corpo comunque fa bene cioè a livello proprio per il corpo sì 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 e poi è tanto anche una questione di disciplina anche cioè lei è anche la tua disciplina vitale la testa io dico comunque anche lì un artista magari anche lì c'hai io c'ho 23 anni sa chi è 22 sì di che anno siete voi? 2001 2001 magari un anno di 23 anni c'ha voglia di fare le tracce in cui vuole scopare le tracce in cui vuole fare quello vuole fare quell'altro e poi fare anche una traccia seria ci siamo usciti da Kairos bellissimo pezzone ragazzi eh ti piace? sì anche io ti faccio i miei complimenti però in Italia magari dicono no ci vuole sta roba ci vuole sta roba ci vuole sta roba ci vuole tutto poi esce fanno culo delle visite fanno culo dei posti in classifica sta roba sempre sai chi l'ascolta poi quando esce? sempre nel discorso del messaggio io comunque sono mega contento di aver trasmesso un messaggio sono mega contento di aver fatto una roba che comunque nonostante sia abbastanza personale questo progetto questo pezzo comunque c'è la gente entrata nel mio tanta gente entrata nel mio mondo davvero tanto io ho sentito il tuo pezzo e ho sentito nel tuo mondo ma perché è una storia vera non sempre contano i numeri proprio però contano però non è vero che non contano no contano fra perché bisogna mangiare contano qua dentro contano però fra non serve tutto fatto però non sempre esatto comunque scusa però sto pubblicando non è che sto pubblicando no 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 non era per dirti che non sto facendo i cazzi miei che magari pensi no 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 fra te l'ho detto io pubblica un puntato non c'è problema no prima che pensavi che guardavo le stai no 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 hai capito abbiamo 22 anni dobbiamo guardarle solo ho fatto i puntati ogni tanto mi chiudo il telefono devo informarmi però cosa sta succedendo giusto frate no però secondo me anche lì sai cosa poi anche lì la musica l'arte è una roba che si prende spunto cioè a volte poi si dice copia il plagio però alla fine uno prende spunto ascolta qualcosa gli viene da un input nasce l'output e uno magari ha anche bisogno di sentire canzoni profonde prima di scriverle non so come dire se tutte le canzoni che girano sono canzoni non profonde che uno comunque dice fra il rap è una citazione è un riflesso un sample nasce dai sample è una citazione continua ma si ma poi è proprio un riflesso vero quello che è stato è un riflesso della società così com'è Ice-T diceva non ha inventato nulla e ha reinventato tutto è una bella interpretazione esatto artisti che pitturavano ascoltori di tutto hanno sempre detto è come tu rielabori quello che guardi cioè tu guardi il quadro di un artista magari che non ti piace magari che ti piace magari ti viene in mente una canzone magari ti viene in mente una canzone a volte sento una traccia sento una parola che dice un americano così e mi viene in mente un'altra rima a me esatto oppure inizio da traccia da quello spunto che ti è venuto poi magari la togli pure cioè io a volte nelle tracce che scrivo nelle notti c'è tipo una parte con le prime due barre separati da tutto adesso della traccia perché magari da quello faccio partire tipo un po' il viaggio però questa cosa magari c'ho una monofrase che non fa manco rima non c'entra un cazzo però quello è il pezzo fa la vibe che crea il pezzo e poi magari poi la lancio dopo due anni tre anni e dico ok adesso lo posso usare in una traccia sì figo comunque prima non mi sono dimenticato quello che stavo dicendo dicevo un po' quello che mi dispiace spesso che viene additato al rap soprattutto della vostra generazione è che dica poco il fatto che fate dei pezzi che confermano l'opposto secondo me vi suonano anche più forti a voi secondo me questo può portare nient'altro che punti up a voi in generale come generazione alla quale forse l'unica cosa che viene spesso detta è che è monotema, è monocorda da questo punto di vista allora dico tempi un po' più duri dove c'è bisogno di tirare fuori delle cose sento molti ragazzi che parlano anche di problemi della mente non per forza di problemi di guerra però posso dirti una cosa cioè voglio dire propso questa cosa lui, Neymar, tutto il suo sono stati primi mi hanno colpito molto perché dopo un'era del rap dove si tendeva a ostentare cose che non esistevano e che non c'avevano quindi gioielli che non avevano orologi che non avevano loro sono stati primi che hanno rivendicato come me come noi la povertà e questa è una cosa che mi pare riconosciuto perché è un ragazzino alla fine dici sono povero allora ce l'hanno fatta vediamo come si fa tutti hanno riportato sta roba che comunque è un vanto perché noi veniamo da determinate zone io come Ostia, tu San Sieru, tu Vicocca, Iari però io non penso che sia proprio un vanto però è uno sfogo non è un vanto di essere poveri è un vanto di dire non sono morto per me non mi vergogno di esserlo io sono così da una casa popolare mangiavo alla Caritas non me ne frega un cazzo ho fatto i soldi con la musica e vaffanculo e non è quella musica ma mi faccio il culo per uscirne capito? io non stimo chi vuole marcire in quella realtà no fra è una stupidaggine per me cioè io volevo fare i soldi per uscire da quella realtà secondo te è giusto rimanere nel proprio quartiere o è giusto dopo che comunque ce la fai in un modo o nell'altro nella vita uscire da quel quartiere senza dimenticarselo e portarselo dietro e rivendicarlo fino alla fine però è giusto andare via da quel quartiere secondo te? per me è una scelta personale bro cioè capito ogni artista dipende ci sono tanti artisti che si comprano una casa della Madonna nel proprio quartiere perché ci stanno proprio bene nel proprio quartiere e ci sono altri artisti che vorrebbero veramente evadere davvero da quel quartiere perché comunque è un quartieraccio può essere o per altri motivi cioè comunque ognuno ha la sua sua cioè non puoi dare un giudizio generale su sta roba secondo me perché alla fine vai a scavare cioè vai a sapere ognuno come se la vive capito? però non è una cosa sbagliata secondo te sei una persona tipo io mi sono allontanato dal quartiere d'origine unico però sai cosa? no secondo me non è per niente una cosa sbagliata anzi per me è una cosa da capito? però infatti un giorno anche lì è una persona deve viaggiare gli altri nel tuo quartiere devono ammirarti a te e fare come te sicuramente a quello guarda si è fatto il culo e poi sono andato da qua ma faccio come lui capito? io la penso come te la pensi secondo me anche lì devi viaggiare il giusto cioè ti devi spostare a un certo punto dici il posto dove sto mi sta stretto se non ti sta stretto c'è un problema perché vuol dire che sei troppo abituato bravo bravo quindi vedi io mi sono preso la casa nel mio quartiere ma tra un anno due anni dico no me ne vado cioè per due anni vado da un'altra parte magari da un paese io lo consiglio anche se stai in un posto bello fra cioè fare un giro e vedere come cazzo funziona altrove non fa nient'altro che aprirti la testa se vai in un'altra regione vorrei andare a vivere a Napoli cioè voi avete collaborato con artisti esteri adesso non so tu di preciso sei già no io in verità no con esteri ho visto che hai fatto anche gaso no? sì 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 sei andato? li hai beccati? sei stato dalle loro parti? com'è? ci accolgono bene? ti hanno accolto bene? ho fatto un po' di artisti bro fuori sincero ho beccato anche non so se si conosci Kodes fra lui veramente mi ha colpito la sua realtà fra ti racconto di dove? e lui questo artista si chiama Kodes fa parte di un gruppo che è stile tipo un po' tipo la roba di SevenZo capito? sono tipo Seven si chiamano Seven la pronuncia non sarà mai Seven Banks capito? e c'è dentro Kobalade quello lì quello lì si si e loro vivono in sto quartiere che si chiama si chiama Ivry e siamo andati a trovarli perché dovevo fare questo pezzo che era io Kodes e Keta conosci Keta abbiamo fatto sta traccia e quindi siamo andati lì a fare il video e già che c'era a me sincero non ne frega un cazzo di fare il video io volevo più fare l'esperienza scusami non ho capito in che zona che città dove eravate in che città Ivry che è tipo una specie di provincietta di Parigi capito? ok Ivry proprio mezz'oretta da Parigi fuori Parigi ok si poco poco fuori Parigi capito? come dire Buccinasco a Milano ok non so se hai conosci tu si 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 certo e vabbè andiamo la ci andiamo in questi palazzi e c'era eravamo entrati stavamo facendo il video davvero veramente intrati ha capito? poi loro c'è una cosa dei flash sai cosa sono i flash? prendono la bottiglietta d'acqua la svuotano tutta e si fanno tipo il drink portatile una specie di capito ci mettono il jack ci mettono la mischia e basta stanno tutto il tempo con questa bottiglietta e si ubriacano si pigliano bene capito? quindi era un po' così la situa cioè puoi immaginare come era no? ok cosa succede minchia? te lo giuro su dio ma davvero non sto scherzando non per esagerare qualcosa fra io ad un certo punto non ho capito proprio un cazzo fra mi giro tempo di girarmi giuro su dio su quello che vuoi fra un esercito di sbirri ma un esercito davvero fra e ci hanno fatto proprio una scena da film fra che ci hanno messo contro il muro apri le gambe così urlato il cassetto con le... sai come sono in Francia? io vado parecchio in Francia in Francia poi capito? la roba che mi impressiona è che la galera lì cioè è una barzelletta parliamoci chiaro la gente ha le piscine dentro i telefoni fanno i video cantano però gli sbirri lì fra è come c'è minchia si sono pesanti no no sono proprio capito come stile america capito? vogliamo fare tipo come stile arresto americano sai com'è arresto americano? eclatante intanto ci avevamo puntato sta intese? no non era intese erano tipo delle robe che loro usano di solito per stoppare tipo le manifestazioni le rivolte che se ti prendono con quello quella roba ti fa malissimo se ti beccano vicino se ti beccano vicino non ci hanno sparato ovviamente perché fra noi non ti dico che eravamo spaventi io sincero ero gasato perché era anche quella per me un'esperienza poi sapevo che sapevo che ero pulito che non mi avrebbero fatto un cazzo a posto quindi anche per quello ero più divertito cioè sincero però che situazione è gas poi bro invece Cheta aveva un manganello fra che stavo usando per il video bro un manganello sai di quelli che si aprono così quello spagnolo eh sì con la bocca del sì sì quello che si apre così con la gente classica arriva lo sbirro e gli vede sto cazzo di cosa che è illegale che in verità sì gli vede sto manganello che non mi ricordo se ce l'aveva lui o Cheta comunque c'aveva un nostro amico non mi ricordo se c'aveva Cheta o il nostro amico che era lì con noi non dico il suo nome Fra ad un certo punto questo lo sbirro gli fa questo che cazzo è di qua di là e il nostro amico gli fa eh ma perché io sono sono la sua security capito devo proteggere anche lo sbirro guarda così dall'alto al basso gli fa now I'm your security let's go capito? e si riporta tutte e due si riporta sono io la tua sicurezza e noi non c'eravamo un cazzo capito? quindi ci hanno lasciato da e avete continuato il video? tu pensa sì e noi l'abbiamo continuato è vero noi abbiamo continuato il video Cheta era in questo tanto le riprese di Cheta ce l'avevamo già quindi era fatto ovviamente telecamera spenta sarebbe stato il punto anche solo 5 secondi dell'arrivo e dato che ci hanno messo contro il muro così sembravamo non so chi comunque è proprio una situazione che se muovevi un dito magari la prima volta che ho visto giri in antisommossa Parigi l'ho visto l'ho visto svariate volte pure al centro a Rue San Deni dove c'erano tutti i negozi rap avete fatto da dare? la vita ci sono stato l'ho visto il mio avirex storico l'ho comprato lì a Rue San Deni l'ho visto mille volte i tipi che arrivavano stanno a setto antisommossa con le mitragliette così e ti mettevano tutti al muro e perquisivano tutti ho paura di fare un danno io nel 2008 ero allo Stad de France a vedere l'Urban Piste ogni tanto mi esce bene ogni tanto faccio il danno è riuscito no? va bene sono le telecamere capito? è l'ansia da prestazione è l'ansia da prestazione è l'ansia da prestazione dicevo prima volta che ho visto gli sbiri in tenuta antisommossa quelli proprio della gendarmeria francese era fuori dallo stadio nel 2008 che sono andato a vedermi tutto il rap francese grazie grazie mille scambio culturale giustamente giusto si la voglio però frate caldo freddo con la birra io ne so qualcosa trammassavo quasi io prevengo da tre quattro giorni che sono stato proprio male comunque e dicevo tutto il rap francese in un giorno c'era allo stadio a Parigi è stata un'esperienza incredibile e c'erano tutti gli sbiri in tenuta antisommossa fuori perché ovviamente c'era il peggio delle ballie a vedere il concerto certo lì comunque ce l'hanno da boh lì hanno la fissa della rivoluzione da vent'anni più di noi vabbè la fissa della rivoluzione l'ha inventata loro si si dicono proprio gli è rimasta come non lo so anche mezzo trauma forse capito poi ce l'hanno nel sangue comunque sì sì qualsiasi cosa succede i paparici scendono in piazza e spaccano che poi ti dico dovremmo anche prendere un paese esatto io li stimo fra perché c'hanno i coglioni sotto scendono e dicono la seguite la scena francese vi piace sì io ti dico ascolto più le robaccine di solito che quelle non cazzo ho capito la roba di sfondare i negozi no quella è una cazzata le macchine dei fuori cristi che fanno al lavoro quella fa parte del trauma della rivoluzione perché pensa tuo padre mio padre scende e non trova mi piace proprio il fatto della rivolta così però non mi piace prendersela c'è capito che indirettamente c'è coi civili coi gente che non c'entra un cazzo è d'accordo con te solo che magari non aveva tempo di scendere o che deve andare e si ritrova la macchina sfondata capito è sbagliato ma è la storia più vecchia del mondo ti ha influenzato molto il rap francese ti ha influenzato più il rap francese hai fatto anche delle barri francese in alcuni pezzi con il gazzo ha fatto delle barri francesi forte eh? spacca e sta crescendo ancora ma ha vinto il servino francese si si forte forte ma adesso va tipo all'Eurovice io ho la mia signora infuocatissima poi lei parla francese di brutto quindi a casa mia c'è solo il rap francese un gazzo spacco anni fa lo ascoltavo di più anni fa lo ascoltavo di più era un po' male è tipo comunque è giovane però quanti anni ha? in intenzione avrà 25 raga ma non posso accendere qua ad altezza uomo ma tu hai sentito più il rap francese o comunque l'americano l'hai sentito? ma guarda ti dico la verità il rap americano ci sta iniziando a fottere cioè ci hanno iniziato a fottere da poco ok però poi sono entrato cioè con il rap americano incredibilmente paradossalmente mi ha fatto un po' da trampolino per tipo la latin trap mi ha buttato su quel mondo ah Noelle quella roba là mi sono innamorato però si da quando sono entrato in quella cioè da quando ho scoperto quella roba lì che non l'ho scoperta neanche da tantissimo bro c'è dentro proprio il mio spacco tipo io conosco poco fatemi qualche nome minchia Noelle per me il capo il king del mondo Noelle la conosco anche io è un grande artista è un grande artista è un grande artista ma come cazzo ti pare rotta? fa canna? fai quello che ti pare sti cazzi comunque dicevo in verità non è proprio il vero king cioè per me è il king perchè io sono strappato però il vero king sarebbe Bad Bunny ok pezzo nuovo di Bad Bunny quello più Jersey l'ultimo uscito se non sbaglio o comunque uno degli ultimi usciti pezzone eh mi piace di brutto quello dove tra l'altro dice nelle barri di C non sono un rapper però comunque io sto infissa quella roba sto infissa dalla notte dei tempi c'è Don Omar New Jam tutta quella roba la molto dei ultimi per me Anuel Daddy Junkie Daddy Junkie lui ha capito come se fosse tipo il mentore eh si io l'ho visto l'ho visto a Milano lo Scangris lo Scangris hai vista la serie? si bellissima bella bella poi io vengo da un quartiere ostia che era pieno di sudamericani cileni così quindi quella roba la portavano proprio ti fai capire minchia c'è il tipo tu l'hai vista quella serie? tutto fra chi l'ho visto? fra è romanzata ma è vera brava ma io la roba che mi ha impressionato sono state tutte veramente le difficoltà tutto il roller coaster era proprio le difficoltà gli sbatti di vita vera che ha avuto capito? la gente che lo voleva ammazzare la madre che eravamo una fottana tossica i geni i panelli i panelli che nessuno di noi fra se avessimo se fossimo capito figli di quella realtà lì capito? che abbiamo una madre del genere c'è il tipo comunque ha avuto le palle fra di far vedere nella serie che lui un giorno è andato a trovare sua madre ma va è romanzata la dipendenza tutte le cose tremenda quella scena dopo tanto tempo fra cioè Iri mi ha dato capito sì il male allo stomaco dopo tanto tempo che non la vedeva chissà da quanti mesi o quanti anni non so fra entra in casa bro la madre sai come ha detto non l'ha riconosciuto gli fa appoggiare i soldi sul tavolo e si stava a sfogliare cioè ha pensato che fosse un cliente capito? incredibile che mi hai ricordato frate è incredibile quel pezzo pesante che poi se vai a vedere pure è girata è girata mezza a cazzo negli ultimi serie si vedono i tatuaggi cancellati di Nicky Jam se vede però ti colpisce però ma poi anche lì c'è stato tipo il cambio di personaggio come si faccia ad andare avanti nonostante certe dinamiche e non riesco neanche a concepire come fai fra a renderle più pubbliche cioè che lo racconti a tutti però fra lui è stato un benedetto perché alla fine guarda lui alla fine ha sbattato da 40 anni però tu devi diventi una star così grande perché lui stava lui era tossico de percoset si anche quella è la storia quella è la storia di spoglio di spoglio che gli fa vedere pure che il padre lo chiudeva esatto che gli fa fare la rota de percoset si brutto nonostante tutto perché secondo me è proprio per quello che lo racconti capito? no perché adesso hai una storia talmente la tua storia di successo è molto più breve nella tua vita rispetto alla tua storia di prima poi lui è arrivato in detta con Teddy Yankee poi lì è arrivato con Teddy Yankee è rinato nel nulla poi si è trasferito a Medellino in Colombia e in Colombia comunque ha avuto un casino di sbatti per le donne perché lui scopava donne di tutti capito? pure di quel tipo criminale che poi lo voleva ammazzare che poi di conseguenza lo cercavano e volevano ammazzare incredibile non avrei mai pensato che eri ispirato pure da quella roba là è figo sapere non ho capito come fra è brutto ma perché fra banalmente loro pensavo più alla roba francese sono un po' no il mondo tipo Sud America capito? Colombia capito? tutti i Puerto Rico queste robe qua banalmente sono terzo mondo come l'Africa capito? quindi per molte cose tantissime cose si accomunano tra noi e loro nonostante la nostra diversità capito? ecco a me piace più il mondo afro c'è uno sfruttamento lì c'è un altro tipo di terzo mondo c'è una roba dell'Africa che è proprio è un altro tipo di terzo mondo ovvio io non voglio dirti che sono uguale bro voglio dirti che se tante cose si accomunano tantissime cose si accomunano è proprio un livello di povertà sì eh lì esatto tipo c'è lì forse in alcuni luoghi frate ho detto proprio loro sono completamente diversi capito? poi ci siamo d'accordo però è l'esempio di cosa fa il capito? anche ancora il colonialismo chiaro no 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 fratello 34 ho detto 40 bestemmi infatti ti dà fastidio a te la bestemmia guarda musicalmente entrambi sti luoghi cosa stanno partorendo c'è la musica afro eh? cioè dico cosa stanno partorendo sti due mondi entrambi no? che sono a livello musicale è roba felice che sta comandando nel mondo si però la roba afro ma se ci pensi poi è tutta roba che bro proprio le sonorità cioè sta facendo veramente una parte che artistia fa proprio che pure la pop culture ha preso dal full beat da tutta quella cultura non mi ricordo mai il nome di quello gatto no ma come ricordo Rema quello eh fra quello fa dei numeri stessereci però Rema di Caldano ha fatto si 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 ho fatto anche altri pezzoni in realtà quello è il più famoso diciamo che ho fatto anche in Italia che poi è assurdo frate quello che dice questa cosa comunque tu sei musulmano però stando in comunità sei stato sei stato molto a contatto con i preati cristiani si che poi frate ti dico la verità io nella mia vita di cristiani vere proprio li ho conosciuti veramente pochi esatto cioè ho conosciuto tanti musulmani veri tanti musulmani un po' pacchi ma di cristiani veri davvero proprio non ci stanno non esiste praticanti perché secondo me non ci hanno appena in Italia non ho mai conosciuto un mio coetaneo che va a me sta sincero è vero forse ti posso dire avrò conosciuto qualche trentenne qualche quarantenne ancora tanto però fra veramente si fa fatica a trovare cristiani praticanti al giorno d'oggi comunque potrei fare di meglio ti dico la verità però ogni tanto mi prendo dei momenti dai beh giusto secondo me se credi una cosa succede da forza secondo me sì 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 ma io ci credo veramente fortemente cioè io proprio è l'attimo in cui ti fermi magari a pensare capito è l'attimo in cui ti fermi magari a pensare capito sì è l'attimo in cui ti fermi magari a pensarli capito come una meditazione comunque sempre che sei bravo, cattivo, la polizia io ti dico tuttora oggi malpensa dici normale sono un ragazzo giovane, nero, con i pantaloni bassi mi fai due domande mi guardi però dici perché devi farmi sentire tra te spiego una cosa io la prima volta c'è il mio amico abbiamo fatto una scommessa di dove sei perché ti sembra è razzista e poi dopo cosa fai, non lo fermi e quindi lui allora si deve sentire come ho sbagliato qualcosa io la prima volta, a 18 anni ho ricevuto due schiaffi forti da poliziotti ma perché ce l'ha tutti almeno non sono la mia la prima volta che l'ho ricevuti ho pensato era andato un tito allora io ti rispondo questi mi devono difendere, mi stanno a menare ma chi cazzo mi difende da questi ho pensato e da là mi è cambiata la mentalità e se provi a fare una denuncia qualcosa te la prendi nel culo te la prendi nel culo del triplo c'è pasta c'è così ho fatto un test con mio figlio in macchina dopo che ci hanno fermato una volta la polizia e gli ho chiesto che stato d'animo aveva mi ha detto che non era a suo agio era agitato tuo figlio? sì non ha nessun preconcetto non sa gli sbirri vedere delle persone in divisa l'atteggiamento che hanno avuto è stato talmente ostile che lui anche ha percepito si è spaventato non si è spaventato perché non è stato brutale quello che è successo è stato un controllo però già solo nell'atteggiamento come si sono rivolti a lui ha fatto questo senza stare a raccontare le mille che sono successe a me o che sono successe a tutti no però io mi ricordo sono rimasto scioccato perché ho detto cazzo mi è stato detto tutta la vita e questi ci devono difendere a 16 anni a 15 anni ho preso due pizze in facciatore ho detto al netto che ci sarà chi onestamente è in maniera corretta fa quello che deve fare io ti dico da quando faccio musica però perché loro fanno di tutta nerva faccio di noi e noi non potevamo di tutta nerva però bro è quello che ti voglio dire tu l'hai mai beccato no aspetta franti ti ricordi quando abbiamo fatto il video di Top G si si ma aspetta diti quando abbiamo fatto ci hanno trattato bene bravi no aspetta aspetta poi ti dico però ti dico ormai come dire vedono che anche i ragazzi tutti noi meno male siamo tutti concentrati su un progetto siamo tutti concentrati su una roba sulla musica e quasi hanno capito che cosa vuoi cioè cosa vuoi venirci a dire va bene perché devi rompere i carioni io no ragazzi in Italia in questo paese preferisci che spacciano diciamo scusami in questo paese li ho visti agire per manganellare chi andava a protestare di recente per le dichiarazioni dei vertici Rai nei confronti delle dichiarazioni di un rapper quindi lo possiamo dire a questo tavolo ma non li ho mai visti andare a manganellare i fasci per apologia del fascismo in mezzo alla strada cortei col braccio esalzato non si è mai visto no ma adesso adesso è giustificato ti fa ragionare è sempre più giustificato quindi è chiaro che non avranno mai l'approvazione che chiariamo anche per chi ci guarda che se al netto che devi chiamarli se succede qualcosa se non sei d'accordo col fascismo non è che sei comunista perché poi la gente dice io non sono comunista però non sono fascista io sono proprio apolitico quello che ti voglio dire però non mi piace che poi la gente mi vieni scriverti comunista magari perché non sono fascista grazie al cazzo nella nostra costituzione è quello il reato è questo quello che dico tipo voi come l'avete sentito comunque avete origini africane tutte e due come l'avete sentito in Italia sta cosa l'avete percepito dalla polizia meno perché dalla polizia non lo so cioè magari perché non sono scuro scuro sono mulatto parlo bene l'italiano agli occhi di un poliziotto italiano e quindi magari non ha mai prevalso magari le battute le cose però la battuta pure ti dico la verità ho amici nordafricani amici più scuri di me che non parlano magari bene l'italiano come me perché però c'è l'abuso l'abuso e l'abuso e l'abuso dalle prese per il culo fino a bro io anch'io sincero non ho mai ricevuto tanti problemi di razzismo sulla mia pelle fra però ti dico perché fra perché io sono sempre stato comunque uno bro che bene o male fra se mi facevi una prepotenza però riuscivo capito a farmi un po' rispettare rispettare esatto e quindi capito la gente mi vedeva che comunque era una persona che si faceva rispettare che era una persona rispettosa soprattutto e che comunque cioè parlavo benissimo in italiano sono molto chiaro nel mio cioè per quanto riesco mi verso come italiano esatto in un modo razzista dicono sembra italiano sulla mia pelle non ho visto per questi motivi però fra tanti come me che magari c'avevano un italiano un po' scarso o che magari avevano un colore un po' più scuro o che magari si vestivano un po' peggio che capito loro si ho visto non solo ci sono due casi ci sono due casi potresti essere tranquillamente siciliano calabrese lo dicevamo prima veramente però però tante gente che comunque casomai mia madre c'è stato un periodo in cui tornava tipo una volta ogni due mesi tre mesi ho litigato con una ma io ti dico c'è litigato che la signora ti fa lei passa è negra levati dal cazzo ma porca troia perché poi mia madre è scura capito se è stupido ignorante la prima cosa che pensa è che cazzo è questa capito è una roba assurda si è una roba assurda è una roba assurda perché capito a me mi è successo in Russia questa cosa quando io sono stato in Russia e proprio in Russia io passavo e la gente mi guardava come dire che cazzo ci fa questo qua non vende le rose non vende i neri che bene o male sono voi comprate poi ci sono però quando sei in giro poi mi fa ridere io c'è un amico proprio Fra che è veramente è di colore Fra e lui è come me bro capito davvero tanto italiano capito però Fra è di colore capito e quindi l'apparenza tanti ignoranti capito lo prendono magari per uno che non sa parlare italiano uno scappato di casa così esatto e Fra lo trattano in certi però Fra giuro con lui bro se posso dire la parola Fra beccano sempre il negro sbagliato Fra capito è proprio il negro sbagliato capito è proprio quello che li mette proprio a posto Fra dalla testa ai piedi capito però con Fra ieri sai cosa è successo Fra ieri vabbè questa non gliela giustifico completamente però gliela mezzo giustifico da ieri siamo andati in un bar Fra eravamo lì lui doveva andare dall'avvocato eravamo in una zona centrale di Milano comunque bro e in trovo cioè io ho ordinato pure una roba Fra mi ricordo mi ricordo ho bevuto un caffè Fra sì ho bevuto un caffè quindi capito l'ordinazione la consumazione l'abbiamo pure già dai a posto lui chiede di andare in bagno chiede di andare in bagno però sto personaggio bro capito è un maledetto gli chiede il tipo gli fa eh sì sì devi consumare prima però lui gli fa ah allora a posto fammi un caffè dai capito perché Fra lui era tanto convinto nella sua testa che se fosse andato qualcun altro al suo posto a chiedere di andare in bagno non gli avrebbe detto che deve consumare lui gli fa allora a posto fammi un caffè e intanto che me lo fai vado un attimo in bagno è andato in bagno ho fischiato è uscito dal bagno quindi quello aspettava che lui prendesse il caffè e pagasse gli fa sì sì a posto ciao capito lui si diverte però rispondere alla domanda di rassi di prima c'è comunque ancora ma io ti dico si sente no io mi ricordo anche quando ero più piccolo Terrore nella traccia che avevi fatto beh alla fine era anche un po' così beh c'è il razzismo come gli albanesi rumeni però per la generazione di mio padre ogni volta c'è un nemico che non si sa perché per la generazione di mio padre era un problema si affittano prima erano gli abbronzati poi diventano quelli che hanno ma non parliamo degli affitti madonna no no gli affitti minchia porca puttura si fa una fatica a cercare tipo con gli stranieri fra trovare una casa in affitto ma io pure impossibile fra sembra che stanno chiedendo ma anch'io stesso quando ho cercato per la prima volta una casa in affitto fra ha fatto veramente tanta tanta tantissima fatica bro perché nessuno cioè vedevano il mio cognome magari ciao incredibile 2024 Italia che schifo ed è comunque nonostante tutto e non è tutta l'erba un fascio esatto nonostante tutto è uno dei migliori paesi dove puoi nascere nel 2024 e dove puoi morire e dove puoi morire sì bravo e dove puoi morire assolutamente se guardi il mondo come il Messico sembra un paese che dovrebbe essere fortunato però è una barzelletta bravo sì cioè tu se nasci va bene in una casa a posto se non nasci magari fai finta nasci in una situazione difficile capito però bro ti stai fottuto cioè noi alla fine piangevamo un po' subbagliato in questi casi capito cioè il senso che ci stanno posti molto peggio di questo fra ti dico che cioè alla fine ci sono anche posti civilizzati in cui non c'hai soldi per pagarti il medico come in America ma anche in Svizzera zio cioè lì i barboni sono barboni però è sbatti comunque poi magari li mettono nelle situazioni li mettono nelle cose non lo so meglio l'ho sempre immaginato con l'iPhone 5 comunque i barboni svizzeri perché perché io non li ho mai visti scherzo scherzo era una battuta a pezzi io non li ho mai visti un mendicante per strada in Svizzera non li ho mai visti no io sono stato io sono stato in Svizzera una volta o su un'altra sera proprio il fratello vive lì comunque è arrivato del cibo vivendo lì ti rendi conto delle situazioni poi cioè viene a Milano magari poi ci sarà sì viene a Milano tre giorni quattro giorni vedi il centro diceva beh se ci sono magari un po' di ladri borseggiatori cose non ti rendi conto di tutto quello che c'è uno va a Roma dice vabbè Roma ci sono vabbè comunque questa roba che mi hai detto che comunque vedo nel nero che parla italiano gli fa strano io sono mio migliore amico è ritrevo ad Amsterdam e lavora da 13 anni dentro un coffee shop il manager quando io sto là che ne so arriva il ragazzo che se fa la foto con me o comunque sia mi riconosce o semplicemente italiani e lui gli parla italiano perché comunque è nato da Ostia e ho cresciuto e ho cresciuto i tipi gli fanno mazza parli bene italiano e lui guarda sei italiano ma anche a me tantissime volte è incredibile sta cosa io ormai sono abituato a me mi parla direttamente io sembra che c'è le colline prima prima magari mi parlavano anche un po' ora mi parlano in inglese ah mister no ci sono ma vai in aeroporto American Express la tipa hi o bonjour ma che cazzo vuoi sono italiano tra l'Italia è l'unico paese io sono tutto tatuato è impossibile è l'unico paese dove io vado in giro io comunque mi guardano male fra mi guardano ancora male perché ci hai tatuato perché ci hai tatuato io mi dimentico magari sono peggio di te figa però questi fanno parte del corpo mio ormai io non me ne rendo manco conto che sto tatuato e quando vado in giro per l'Europa non sento il peso dei tatuaggi capito come vabbè io in alcuni posti sono ancora tipo una specie di calciatore se voglio vendermi come un calciatore mi chiedo due foto arriva tipo chi è il calciatore? chi sei? calciatore gioca nell'Inter io tantissime volte mi trovo in questa situazione che magari arriva una squadra minosa sono in un posto dove c'è tanta gente arriva magari qualche fan fra mi chiede la foto davanti a questi qua che non sanno chi sono fra vedono il tipo che si è fatto la foto sono scandalizzati vogliono sapere chi sei c'è chi pure anche se non sa chi sei vede quello che è la foto dice con sicurezza la faccia però quello non è legato lo scoprirai il fatto di essere di essere miei cose meno male poi rimaniamo calciatore e quindi capito io in quei momenti che mi dicono ma scusa ma tu chi sei io potrei dire una volta te lo giuro su Dio una tipa una tipa era mi fa ma scusa posso chiederti chi sei io sono un cuoco famoso faccio Master giuro su Dio ma era per ridere non so perché mi è venuto proprio spontaneo e lei si mette e lei ci ha creduto di brutto capito mi fa minchia capito che ho visto in televisione se l'avessi detto io mi dice ma vai a cagare però non me l'ha detto cioè comunque e l'hai retta l'hai retta un po' quella pensa ancora che tu no 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 dopo dieci minuti dopo dieci minuti è ritornato mi fa sì sì meno male che eri un cuoco perché si vede che sarà andata a chiederlo a qualcun altro e quello l'ha detto ma te ti stava prendendo per il culo bellissimo a me mi chiamano gli Artify io arrivo con il mio team mi fa ah voi siete gli Artify faccio sì siamo tutti a cinque perché noi siamo i della macchina Five sì sì tipo magari mi fa tipo i Jackson Five gli Artify gli Artify faccio sì 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 gli Artify ma ti posso chiedere l'autografo per mio figlio faccio sì sì ma ti faccio il video entrano gli altri mi faccio dai ragazzi tutti l'autografo com'è Artify non ti ho mai chiesto lo sai io faccio il secondo nome Arturo e Five Arturito Cinque vie primo nome Ivan Ivan Arturo è il mio secondo nome è il nome di mio nonno Ivan è il mio secondo nome è il secondo nome di mio figlio è l'ucinante mi piace ancora il secondo nome brava no ma è il secondo nome esatto tu come ti chiami di nome? io fra se vorresti sapere il mio nome vero fra cioè in Egitto c'è l'usanza io sono metà egiziano no e quindi in Egitto è come vedi tante cose si accomunano col mondo latino anche lì c'hanno la roba dei tre nomi quindi c'è il tuo nome il tuo nome è il tuo nome il nome di tuo padre il nome di tuo nonno e il tuo cognome ok e loro invece capito in Sud America in Sud America ce ne hanno anche più di tre capito loro vanno avanti anche di domenica Milio Escobar Gaviria tu magari di Gaetano ma Gaetano chi? figlio di chi? nipote di chi? mio padre si chiama Salah mio padre si chiama Salah come il calciatore ok poi mio nonno si chiama Mohamed e il mio bisnonno Abdo quindi c'hai quattro nomi e poi il mio cognome Abou El Hassan però sulla carta identità c'ho solo Sami Abou El Hassan quindi il tuo nome è Sami si ok pazzesco però capito già due nomi in Italia sono tam se fossi nato in Egitto non mi chiamavano mi chiamavano Sami Salah ok ho capito perché mio padre si chiama Salah come Momo Salah Momo Salah non è il suo cognome Salah è il nome del padre di Momo Salah quanti anni hai? 300 poi Momo Salah c'avrà un cognome non so quale sarà però capito Salah non è il cognome ok Salah è il nome del padre non lo sapete? in Egitto è così poi invece in Marocco ti danno un nome tu sei un azionistiano? leone e papà italiano poi comunque sono nato in Italia tra l'altro mio fratello c'è un fratello più grande che è nato in Senegal papà di Milano papà di Pavia però vabbè non bardo sì ma poi tra l'altro tipo le mie origini non sono strane c'è tipo un cognome che non tipo ci sono 40 barioli nel mondo barioli? con la B non ho mai capito una famiglia nobile barioli non so chi c'è tipo il quartiere c'è nascosto che è ricco e nobile arti lo potevi dire si chiama Sangue Blu si chiama Sangue Blu no raga ma magari ma mio nonno quanti nomi hai? ah se è giustista non è giusto non è giusto quanti nomi hai? tre nomi hai tre nomi è un cognome raro? no frate è ricco è ricco siamo in presenza di un principe ora vi spiego mio nonno meno male come l'ho capito mio nonno come l'ho capito no ma perché sono tutto retto è tipo il momento di scoprire davvero davvero genealogico si davvero genealogico e sapere effettivamente cioè sei tipo prima di mio nonno che ha fatto tipo il giornalista ma cioè mio nonno era comunista capito? ha fatto tipo il giornalista comunista poi è andato all'est ha conosciuto una donna dell'est è stato all'est con la donna dell'est capito? ok prima di mio nonno cioè secondo me tipo il level up era il contadino perché magari guadagnava più del genealogista però non lo so cioè capito lo scoprirò so soltanto che tipo la cugina di mia nonna è stata l'ultima moglie di Anthony Quinn sì sì perché era la sua segretaria e non aveva i soldi ma che soldi frate quando ti lasciano i soldi ma frate non la lascia stare però no è italiano di Pavia quello che so è Certosa di Pavia fino a Certosa di Pavia ho fatto il percorso e mia madre Freetown sì 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 Freetown Coroma che poi è un cognome abbastanza diffuso Co? Coroma con la K Coroma ah comunque questo format spacca ti piace? è X fra cioè non è che parliamo sai la gente deve capire saluta mamma cioè saluta te mamma è sempre saluta mamma questo è un podcast easy fra come cioè non è che tu vieni qua a pubblicizzare il tuo disco sì sì a me piacciono le cose poi io a te la prima volta che ci vediamo Arti l'ho beccato già una volta però capito a me piace conoscere gente uguale non voglio conoscere Saki voglio conoscere la persona perché Saki io e te ce l'avevamo già visti sì al release di Guè sì ti ricordi? sì sì mi ricordo mi ricordo di Madre Parla comunque fra se tu ci pensi Arti e Saki bene o male li conoscono tutti i ragazzi li conoscono io voglio conoscere le persone che si adeguano esatto 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 c'è capito banalmente magari i ragazzi ci conoscono dalle canzoni da dei pezzi capito chiaro chiaro come si dice marginalmente marginalmente sei tu quello acculturato però mi hai detto Margi sei tu quello che hai studiato tu metti 800 mi hai detto Margi che cazzo devo dire tu metti 800 spunti in una canzone magari da due minuti sì ma non vuol dire non lo sai nemmeno tu che ne hai messi 800 certo a volte se delle cose sono di succor sì 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 però comunque cioè dalla fine piano piano definisci cioè se io dico se io dico qualcosa sulle donne non è che sono femminista sto parlando a un certo punto ormai di questi tempi un attimo che cade porco te non si può di più ma penso che si capisca ma pure il concetto di pace è stato messo in discussione di recente uno non può dire che è a favore della pace cioè veramente diciamolo siamo a favore della pace te che vuoi essere a favore della pace a favore della pace stop a genocidio stop a tutti i genocidi dicono sì esatto tutti di tutti gli altri che ci sono continuati nel mondo da anni capito forza e stop alle stronzate per favore stop a anche stop non si può veramente stop all'odio stop a tutta sta merda che non serve un cazzo ma non si può veramente più toccare nessun argomento tutto viene messo in discussione viene messo sotto eh ma perché purtroppo una lente di ingrandimento fra non c'è più un comico che mi fa ridere non possono più parlare è un cazzo la pace non si può più professare neanche la pace solo la cuore si può parlare ti spiego perché non si può più professare la pace perché la guerra è un business più della pace capito per quelli che fanno nascere la guerra capito quindi quando qualcuno parla di pace loro minchiai capito non so come spiegare spiegagli noi non abbiamo detto che dopo viene mangiato per esempio per esempio per esempio Gali non ha cioè la roba che ha fatto Sanremo lui non si è schierato capito ma c'è a parte ha detto stop al genocidio non ha detto neanche di quale genocidio che mi ha capito potrebbe e io sono d'accordo con lui io sono schierato sì ma per la pace capito io mi schiero per la pace non per uno per come l'ha inteso con l'allieno cioè figa la roba proprio come se cioè l'allieno dice stop al genocidio come se fosse capito sul mio pianeta cioè come dire cioè io l'avrei risposto così era l'allieno che diceva stop al genocidio però è un messaggio Sanremo vuole il rapper che va di moda ma non vuole il rapper devi andare duro il rapper è questo bro la verità che vuole anche il rapper lo vogliono solo che la verità è che non vogliono parlare la verità è una pedina che viene utilizzato cioè non lo so non in tutti i casi ma non vogliono il rapper è un tema scomodo sì esatto sembra che è meglio stare zitti è un tema scomodo ma non a noi è un tema scomodo per la tv nazionale anche perché il nostro paese è palesamente palesamente schierato su questo non è che c'è tanto per stare a discutere però posso dire una cosa tra voi ragazzi voi ragazzi a Sanremo vuoi perché un giorno sono io quello che si piglia i fischi con mia madre che mi guarda sono io quello cioè che cazzo ne sai capito come pensa i genitori cioè io non posso andare a Sanremo se voglio non posso andare a rappresentare queste roba perché dico ma che cioè vado a Sanremo perché devo fare il nero a Sanremo vado a Sanremo perché gli serve il nero a Sanremo a Sanremo tu vai là per quello o gli serve il ragazzo marocchio non mi posso mettere questo perché adesso devo essere ma come vogliono i rapper perché i rapper portano poi c'è chi sa roba ci naviga perché ne è consapevole secondo me ci naviga ci fa un culo tanto anch'io sto andando lì a prendere il mio ok io rispetto pure quello perché comunque è la vetrina è la vetrina tua tu ragazzi tu e te puoi puoi solo esporti in quel modo io rispetto tutti anche io però cazzo se tu vuoi i rapper a Sanremo ti becchi il rap a Sanremo e non è solo la musica eppure l'immagine è quello che ci hanno da dire rapper a Sanremo perché ti prendi quella realtà frate da quando è nato il rap comunque è una musica di protesta e che descrive tutti i disagi che abbiamo intorno noi cioè il rap è sempre stato quello quindi se tu vuoi il rap a Sanremo tu ti prendi anche quello ma a parte il fatto che se vuoi il rap a Sanremo cioè di più di le conseguenze vuoi il il rock a Sanremo minca più di le conseguenze cosa vuoi che cosa vuoi che succeda cioè è la realtà cioè basta evitare di mostrare la realtà basta chiudersi gli occhi sì cioè mostrate la realtà dite la verità e poi dopo le cose si cambiano almeno sai no va tutto bene è giusto che noi parliamo dei quartieri minca comunque sto realizzando adesso che Galli proprio non si è schierato minimamente anche nella canzone non ha detto io prima ho sbagliato prima ti ricordi di Sanremo che ti ha detto ognuno ha portato cioè lui ho detto Galli ha portato il messaggio per la Palestina invece Galli ha portato il messaggio per la pace per la pace è tanto diverso che poi lui aveva portato questo messaggio sulla pace pure l'ultima volta che erano tra Sanremo cioè bene o male ha sempre portato sì Fra ma è giusto chi cazzo è che non può professare la pace tutti vogliamo la pace chi è che non vuole la pace io ho capito io voglio la pace eh ma la pace arriva dalle persone che hanno la fede non arriva dalle persone la pace arriva dalla gente che non ha interessi perché da chi ha interessi non gli interessa la pace secondo me quando credi in qualcosa quando sai che bene o male tutto gira col karma dici i soldi bene faccio i soldi mi rendo conto che i soldi sono quello che sono me li faccio andare bene se li perdo imparerò a tenermeli meglio se li faccio di più imparerò a essere una persona migliore con tutti quei soldi però cioè i soldi non fanno la felicità così come no zero capito che poi non è che nessuno di noi ti fai un viaggio scopri che per tutta la vita cazzo ci sono persone che per tutta la vita sfottono e parlano male dei cinesi come se fossero male del mondo vanno in cina magari e scoprono che che è una bellissima cultura cioè a proposito cioè a proposito a proposito di cintura cosa mangi cinese Sagi si cos'è allora qua abbiamo del riso un botto di maiole insomma mi sembra senza mi sembra con verdura mi sembra un'occhiata wow questo è verdura abbiamo toccato i temi scomodi apriamo bene questo 2024 che dite ragazzi cosa dovete tagliare niente 2024 sono soltanto temi scomodi niente solo temi scomodi bisogna parlare di determinati argomenti bello anche sporsi e dire la propria vedi per esempio io uso pochi social per dire la mia da questo punto di vista perché è una scatola è un contenitore veramente ostico mi piace farlo quando sono sul palco mi piace farlo in un'occasione come questa fai il tuo la fine devi pensare che devi fare il tuo nella vita non lo so nella società perché cattura tanto olio non devi pensare io non sto facendo abbastanza stai facendo qualcosa assolutamente ma assolutamente c'è una netta differenza fra fare la propria parte e dire di fare la propria parte uno può fare secondo me chi fa la propria parte non lo dice neanche poi benissimo lo dimostra con la propria parte non esprimere un'opinione non vuol dire non avere un'opinione soprattutto sui social soprattutto dove è tutto veramente così amplificato in una maniera dove l'odio purtroppo puoi prendere il sopravvento non è più un confronto quella roba è diventata un contenitore dove come abbiamo detto viene messa in discussione anche la pace che in nessun tavolo normale mentre della gente mangia verrebbe mai messa in discussione da nessuno ma beh basta che paura di esprimere quello che si pensa questa roba è una merda più che altro sai cosa c'è paura di esprimere quello che si pensa ma se impari a esprimerti piano piano il problema è che buon appetito buon appetito a tutti dicevo di persona funziona sempre è il contatto umano stia cazzo di scatolette porco due che sono poi non è che si può pensare di vivere senza ormai però comunque parlavamo di due cazzate che hanno fatto proprio la puntata più conscious hai ragione la puntata più conscious dell'anno abbiamo parlato di robe serie però se tu ci pensi tutti si aspettavano che comunque una puntata con due ragazzi del 2000 comunque si parlava di cazzate invece il cazzo capito come si parla di cose serie proprio con l'anno io sono dell'88 35 finca sei degli anni 80 tu squad no l'anno 80 sono nato nell'88 fratello ma puoi dire di essere degli anni 80 però io sono dell'85 io sono degli anni 80 io provo a scatare il 2000 questo cos'è è piccante credo di sì da come si vede sembra piccantissima però quello altro cos'è non lo sai quello è il mistico il gusto mistico c'è la soia c'è la soia raga manca di soia senti se dovete buttare uno giù dal burrone io ti si aspetta devo seguire anti senti senti se dovete buttare uno giù dal burrone fra Kanye West Treviscott e Kendrick Lamar chi buttate Kendrick Lamar pure io fratello non c'è neanche da pensarci non lo so sì ma via di mezzo Kendrick Lamar però forse Kanye sta simpatico a te di brutto però sai cosa che fa quello che cazzo gli pare dice quello che cazzo pure per me avete visto la pubblicità al Super Bowl stupenda ha detto ho finito i soldi quando andate a comprare maglietta a 20 dollari andate sul sito ma poi l'avevi vista come le sta 18 euro 20 euro pure su Instagram come le sta spingendo in modo la tipa che mette sempre la tipa nuda infatti grazie ai cani che metti bianca nuda ti ha bianca la tipa ha messo come la copertina del nuovo disco pure spacca io ho butto giù sbetto ma bianca è italiana bro sì no di origini io ho butto giù Treviscott dai basta sto dicendo Treviscott ti hanno soffiato pure i cremmi basta no no noi dico basta basta tra l'altro gli ha vinti Killer Mike per poi partire stare dopo giustamente per me ingiustamente per me basta guarda Treviscott secondo me non doveva quest'anno non doveva vincerlo con questo disco doveva vincerlo per tutto quello che ha fatto fino adesso senza ombra di dubbio se lo meritava per me questo è il disco dell'anno di Trevis e dopo c'è Bad Bunny per me doveva vincere Metro Metro ma sono gusti bro come supposta Metro mio fratello nessuno tra 21 e Metro fino alla morte comunque regà questo è pesante chi butteresti dal burone Ali Maradona o Jordan Jordan ma brava per favore no non c'ha neanche pensato Jordan no io non commento è troppo un gott cioè Ali bro è il gott Maradona bro i fratelli napoletani mi fissano Maradona se lo butti giù mingh ma buttati tu e l'altro fra rimane lui purtroppo no 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 regà io questo qui questo berrei non fanno rispondere ma poi Jordan bro ma ma si ma l'ha buttato per esclusione esatto per esclusione ma qua sono commento ma il gioco non vuol dire che se lo butti giù non vale un cazzo ma che cazzo l'ha fatta sta domanda regà ma che si può fare un gioco porco due non vuol dire che non vale un cazzo non è che se lo butto giù tre biscotti non vale un cazzo tre biscotti ma non puoi buttare giù Jordan ma che cazzo l'ha fatta scendi in base scendi in base io voglio sapere cosa io lo sai chi butto giù l'autore che ha scritto sta cazzata no a te te butto giù dal burrone hai ragione che cazzo scrivi anche io concordo però dai buttane giù uno per l'outfit no no per una scena no scusatemi ah lì è il goto della bozza Jordan è il goto del basket Maradona è il goto del mondo cioè che cazzo chi butti giù lui ha detto Maradona ma perché si io capisco tu non sei uno che segue tanto il calcio io da quando sono piccolo sono nero G io non seguo il calcio ma Maradona per me state zoomando state zoomando Jordan è il capo vabbè no fratello Maradona è il capo lo rispetto Nike Gucci o Barberi io butto Barberi subito anche io butto Barberi perché Barberi che cazzo avete contro Barberi Gucci bro italiana portiamo rispetto poi l'altro Nike non la butterò mai giù io ti dico vabbè ma chi se la cura Barberi dai buttiamo giù Barberi no a me che mi avete fatto tutto il discorso non è che li fai a buttare non è che li fai ad ammazzare non è che però fratello come si però Nike Gucci e poi Barberi è come se dicevano Buttigio Ali Maradona o Cassano no da italiano hai più roba di Barberi o di Nike da italiano di seconda generazione però c'è chi non difende capito non per me sto fastidio c'è chi non difende no Gucci ma sì questa pure simpatica ma è iconica però c'è hai più roba di Nike o di Barberi nell'armadio onesto no Nike non la butto ok perfetto no Nike non la butto sarà incoerentissimo vedete che volevo dire invece il rap italiano mi ha influenzato a voi il rap italiano mi ha influenzato a me sì sì sincero bello scrivere poco del rap italiano mi ha influenzato tantissimo Guè bro pure a me Guè per me ha capito Guè è il rapper migliore che l'Italia abbia mai visto da quando è nato il rap in Italia senza dubbio e comunque capito però rimane anche Marrakesh comunque sono messi Ronaldo capito però bro per quanto riguarda i miei gusti personali sì per longevità quantità qualità è il dubbio a me Guè mi piace tutto di lui capito mi piace il suo lifestyle la sua musica come riesce a cavalcare tutte le onde ma poi è transgiro nazionale ragazzi sì bravo perché ha cavalcato tutte le onde possibili quando io ero un ragazzino con grande stile nel 2000 lui ha fatto la prima roba era sacra scuola la prima roba che uscì tigre cioè raga erano già forti era scritto nelle stelle che avrebbe e poi vabbè anche Marra punto di riferimento da allora intoccabile anche Marra perché è stato da molto di ispirazione perché comunque ci accomune la roba che veniamo dal quartiere che comunque lui è tanto legato al suo quartiere cioè comunque questa roba che comunque siamo gente di quartiere capito mi piace sta roba e mi piace anche la roba della sua rivalza capito che comunque da con la realtà è arrivato a diventare Marrakesh capito beh forse è stata la prima grossa rivalza del rap delle perifine ma poi anche anche a livello mainstream se vai a vedere sul suo profilo in fondo ci sono anche tipo i vecchi video tipo del making of di Badabun Ciaccia e cose cioè comunque è cresi perché avedi il supporto del quartiere magari a limite cioè i tempi non erano cazzo che per gli anni in cui erano quando è uscita quella roba siamo rimasti tutti così bro era impensabile era come adesso quando facciamo i video in 300 capito noi che veniamo in contesti così ma sono quelle le robe che ti rendono king capito noi siamo un po' figli di Marra tutti quanti perché noi comunque lui ha portato il quartiere in alto è la roba di quartiere perché non è il gangster rap io ho scritto il nome del mio quartiere sulla schiena capito come qual è? Ostia Roma comunque c'è sempre stato un motivo di vanto per me pure se è un quartiere problematico che ho avuto mille problemi comunque Marra quando ero regattivo mi faceva vedere questa roba della barona che la portava in alto e dicevo cazzo come lo fa lui lo posso fare ma poi sai cosa di raccontare proprio la realtà proprio a modo di film cioè capito di dire cioè di dare quegli quelle immagini che uno dice minchia ci entro proprio capito sì per scrittura per attitudine anche che non c'è mai stato dice minchia allora è così cioè allora non è così come da me magari è così come da lui perché lui è a sud come quando sentivi gli ischietti big e sembra che stai a New York capito come anche se non ci sono mai stato però sentivo che quello era New York come se sentivi Marra sentivi Marra San Siro mi fa strapiacere sta cosa è figo perché non è comune trovare un quartiere così multiculturale in tutta Italia quindi tu mi porti là dentro capito questa roba è figa poi figo potenziato dal fatto che comunque c'è un crew ci sono al di là del fatto che ognuno di voi ha il suo percorso che spesso si incrociano magari poi no ognuno fa la sua strada ma che pure è giusto perché non esistono più quei gruppi che fanno solo cioè comunque è un collettivo però a livello di immaginario non è tipo One Direction capito ma l'avevo notato comunque che non eravamo One Direction adesso bravo pure io musicalmente mi sembrava un po' diverso un attimino no no ma non parlo musicalmente dico proprio a livello di gruppo cioè non è una band no parlo prima non era così no non intendevo gruppo come gruppo collettivo come collettivo ma come artisti che sono della stessa cioè dello stesso quartiere è un bel fenomeno chilometro quadrato ogni tanto sai che anche io nonostante l'ho vissuto sulla mia pelle con questo fenomeno ogni tanto comunque cioè mi metto a pensare su quanto è stato assurdo sta roba della Seven Zone comunque cioè che ci sono sei artisti più sette quindi sette artisti in verità perché viene contato anche il producer che è un artista anche io che spacca il culo fortissimo e fra e la roba impressionante è che comunque sono sette artisti che c'è hanno non voglio dire hanno fatto successo stratosfera però comunque sono sei artisti fra cioè capito non sono sei artistini non so come per spiegarti che siete scelti tutti dallo stesso contesto e che mi impressiona il fatto che spaccano che tutti spaccano e tutti sono riusciti a diventare famosi non c'è un leader fra io non vedo un leader nel senso eh purtroppo bro noi siamo cresciuti anche in una situazione in cui cioè la nostra zona bro è così fra è giungla capito cioè non c'è non c'è mai stato un capo o un capito di solito nelle zone c'è sempre lo zio della situazione o uno che comanda sul resto si che arrivi gli dici è successo questo quest'altro e risolve lui la situazione dice che ha ragione chi ha tolto da noi invece no è giungla capito quindi ognuno fa un po' il cazzo che vuole a suo rischio pericolo e così però siete stati bravi voi anche musicalmente a fare comunque tutti poi indipendentemente da quegli episodi le vostre cose questo ha confermato il fatto che ognuno di voi doveva fare quello voleva fare quello che poi tutti insieme avete fatto un disco solo avete fatto un disco solo progetti comunque da soli però è figo pure che vi intrecciate che state che non è manco detto che nel progetto dei saghi c'è un altro membro è vero questa è una figata anche per me pure questo che c'è sempre quella roba che in Italia se non stai nel disco allora se quello non stanno nel disco allora siete nemici non è vero fra è giusto vabbè ma il chiacchiericcio c'era ma il chiacchiericcio funziona pure a elevare la cosa secondo me no comunque il gossip funziona cioè si dice che che sia il detto no che sia bella brutta è sempre pubblicità basta che ne parlate giusto è così secondo me fratello alla fine poi non di tutto ci sono cose che si ovvio non di tutto ti ha fatto lo schifo è giusto che ti fai schifo capito? si 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 fa qualche domanda scomoda va? si chiama scegli il male minore e qua ovviamente il male minore è prendersela sempre con chi consiglia il culo figlia velina o figlia ludopatica minchia io rido perché queste cose le facciamo noi capito tra di noi ludopatica tutta la vita ludopatica ludopatica perché ci penso io la curo vabbè perché è velina no? giocate te lo dico no ma perché ti darebbe fastidio no anche perché onestamente no ma perché nel senso cioè alla fine nel senso se sei ludopatica magari do per scontato che sei una figlia cioè hai studiato boh sei diventata una fisica nucleare cioè nel senso per mia figlia vorrei meglio non vorrei che andasse comunque a dire no vabbè io come dire il mio top è il corpo poi per carità nel senso no no giusto io l'unica cosa direi comunque ludopatica perché oggi non lo so ma magari ci sono anche le veline che è meglio il ruolo no ma il ruolo dell'avellina non è mica più quella degli anni 90 l'avellina l'avellina negli anni 90 aveva un peso cioè televisivamente parlando oggi l'avellina che peso ha onestamente oggi sono tutte è solo una parola ma esistono ancora veline sì probabilmente questa domanda ci saranno ancora asserciare la notizia cioè ti dico le veline ma che cazzo vede più strisciare la notizia che cazzo le so Ezio Greggio però le veline sono le ragazze amiche entravano pure le veline facciavano il balletto fra c'era tutta Italia incollata ti portavano il cane però ti parlo ai tempi in cui andava la tv io l'ho letto ho fatto così rinascere finto ricco finto povero finto povero almeno sei ricco sì infatti finto povero dice il contrario finto ricco è una sofferenza frato ma che cazzo sei indificente c'era in giro con Rolex finto con le gioielli finto povero che cazzo di domanda è allora finto povero perché comunque voglio dire chi dice il contrario perché è nato ricco senza comprare di dubbio e mi sembra che è qua al tavolo ma perché quanto c'è esse poveri non capisco ma poi è stra affascinante il ricco non ti dico il ricco che fa il finto povero ma il ricco che non ostenta cioè è affascinante sì anche che hai capito i più grandi ricchi alla fine quando magari vanno in giro si mettono una maglietta bianca una maglietta nera non posso capito invece chi vuole fare vedere di solito capito non pare di più perché non c'ha avuto niente come noi e quindi si mette le collanne gli orologi comunque però quello è pure ribalsa quando la gente dice qualcosa ti dico tu sei nato ricco comunque quello è pure ribalsa comunque se non vieni da niente nella nostra musica è un codice prima parlavamo fuori che mi hai detto uno dei primi dischi che ho preso è stato paid in full c'avevano pieni di oro in copertina ma è una roba d'artista capito è una roba del rap alla fine quando ce la fai no ma culturalmente fa parte della nostra musica però ti posso dire una cosa il rapper che ce la fai e si mette il collanone è quello da se c'è capito dai tempi di ma prima dai Rick B e Rakim tu lo sai chi sei Rick B e Rakim? ma sai che no? ho due rapper molto forti cioè un rapper è un produttore DJ molto forti degli anni 80 e Rakim è un mega gang se non ti faccio vedere una foto e capisco Rakim tra l'altro se tipo Fif ti ha dichiarato che è uno dei suoi fav per dire ma tutti canta ancora o è uno vecchio? no vabbè ma ci avrà 60 anni ma 60 ancora ha 56 anni ancora grattugia qualche disco cazzo chiaramente non è più influente però è una leggenda cioè tipo ho visto pure Jay-Z che l'ho visto sto video di Jay-Z che lo becca cioè hai capito che tipo è la fra? è un minchia è una leggenda questo è il primo disco vedi che c'avevano anche loro i collanoni perché facciano una cultura hip hop bro mega guarda però ma paid in full paga in pieno porca puttana pagami per intero poi ci hanno fatto pure il film hai visto paid in full? paid in full se no salvato paid in full fra io cioè io c'è una cultura per quanto riguarda i film pessima ma io ho visto veramente poco o niente che ti vedi in televisione? cioè televisione non la guardo bro zero no no televisione io penso che quando c'è solo la tv l'ho guardata solo quando ero al minorile bro ma veramente solo quando ero al minorile poi forse da piccolo guardavo i cartoni i telegiornali la mattina guarda che 4 tutto Gucci poi con la tv non neanche c'è una chi è? Rakim sempre si Rakim tutto Gucci custom pieno di colgono si quelle da per dan certo bellissima hanno anche i nomi dietro proprio Rakim si si perché c'era sto tipo da per dan no? però ho visto qualche serie cioè le serie qualcuna le ho visto le serie ti attirano? si un po' di più che serie ti piace? ma anche quelle sono molto banali bro ti dico no c'è niente di wow davvero l'hai visto anche tu no è Narcos bro Narcos? stupendo le prime due stagioni con Pablo Escobar Narcos è stupenda si poi adesso che mi viene in mente ho visto la mia la mia stagione preferita in assoluto che per me però c'è anche da dire che ne ho viste ne ho viste miliardi romanzo criminale bro Frizo di Roma romanzo criminale per me è la serie italiana più bella che sia mai esistita per me cioè chi se l'ha perso se la deve guardare proprio si romanzo criminale assurdo chi era il tuo personaggio preferito? eh il libanese però poi è morto poi è diventato Erdandi poi Erdandi ha iniziato a impazzire quindi è rimasto come idolo un po' quello lì che è scappato in Marocco come si chiama? Freddo in Freddo e lui è rimasto quello un po' più in verità sì quello che non ha mai fatto infamata non ha mai fatto torto però in verità in lui ah nella verità sì allora basta niente tu bro film cose lui sì mi piace però ho visto un po' di guardate un po' il gangster o un po' di tutto gangster movie ti piace no? sì un po' di tutto good fellas quella roba là ti piace? sì sì un po' di tutto anche serio tipo la televisione non la guardo proprio più la televisione però è non trovo niente che mi piace i cambi penali cioè c'è l'uomo è vecchia tipo perché è vecchio pure quello che c'è dentro la televisione cioè è vecchia la tv no 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 la televisione cioè proprio la televisione è vecchia ma tanto se la cieli sono i stessi programmi di trent'anni fa mi ero immaginato a casa sua con quelle il cellulare non è nuovo non l'ho ancora presa quella roba non ho il mobile giusto non metto più la televisione io non ho l'antenna in casa io non ho la tv io guardo solo io ho il pezzotto che pago 8 euro al mese e ho tutti i canali 8 euro? vuoi ti dà il contatto dei toni cos'è il pezzotto? il pezzotto è quella cosa tipo 8 euro è competitivo però non l'ho mai sentito 8 euro al mese dai 50 euro ti dura un anno non l'ho mai sentito 8 euro 6 mesi 50 euro praticamente c'è tutti i canali dentro contattati da sti Netflix 12 euro 4 euro in più fatemi di fare il numero di sovraimpressione le prime 10 telefonate avranno in omaggio c'è stato tutto dentro c'è i canali tipo di tutto il mondo tutto c'è la moglie di guardarmi Sky c'ho Prime tutto c'ho fra tutto sai qual è Bainsport fra? cosa? non hai mai visto tipo quei video anche su Instagram ti escono che carame si quello lì dai quel conduttore famoso fra che fa la che conduce in arabo no no mai visto io non l'hai mai sentito anche la mese anche la mese però c'ho pure i canali arabi c'è sta tutto fra c'è sta c'è un canale che si chiama film registrati al cinema se volete ve lo passo per la modica cifra di 14 euro al mese so poco fa era 12 a fine puntata sono 25 è il suo pezzotto a fine puntata sono 6 euro il pezzotto per altri comunque bravo però il pezzotto mi ha salvato la vita qualcuno che poi so pure Netflix però è di una persona poi c'ho Prime di un'altra persona però questo è spagnolo sentirei il microfono beh non l'avete mai sentito veramente è famosissimo ci fanno i meme tipo bellissimo e vabbè è piano piano quindi anche quei canali c'è c'è tutto c'è tutta l'Europa americana c'è sta tutto poi dentro c'è stanno tutte le serie capito i film poi passo il contatto a proposito di c'è una serie sui film sai qua io non me lo cazzo finisce che c'è no ma non lo guardo beh per cazzo eh documentari mi piacciono cazzo veramente sta perché abbiamo parlato che anche lui ha giocato a rugby un po' di anni ho fatto un anno e mezzo un anno e mezzo ok io non capisco le regole e c'è neanche io lo capivo dopo un anno e mezzo le regole di rugby ti può confermare che è complicato non è semplice io ho capito una cosa che non si può passare l'indietro no è l'unica cosa che puoi fare indietro ma un botto saluta gli amici regbisti c'è Sport della Madonna no no è figo da vedere il documentario parla di 6 nazioni e lo fa vedere proprio con un occhio interno da alcuni giocatori e poi vedi proprio il contatto il documentario è? su Netflix 6 nation non lo so non lo stavo dicendo 6 nation è il torneo più grosso si parlava di serie l'unica cosa che ho visto di recensione è questa infatti non lo conosco e poi mi sono riguardato Top Boy non so perché Top Boy Spock la prima Summer House Summer House Summer House Summer House l'avevo vista tipo il streaming anche io ai tempi io domiciliare l'avevo vista e poi quando è uscito tipo su Netflix ho detto che cazzo è sta roba tipo quella nuova che poi lo sai come una storia è Drake la storia originale no 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 Drake l'ha ripresa e dopo dieci anni l'ha fatta ricominciare perché uno l'ha visto Top Boy vedi lo secondo me è fantastico Top Boy tra l'altro ho visto si l'ho provato a iniziare poi ho beccato pure il tipo che fa la serie tra l'altro secondo me è proprio quello spaccato di società londinese del ghetto solo che quando l'ho iniziato sai cos'è la roba che mi ha fatto smettere di guardarlo è che quando l'ho iniziato mi hanno detto ma che cazzo stai guardando ce n'è uno da guardare ancora prima di stagione che la trovi solo in streaming si Summer House si ma non sono collegati i personaggi la storia è un'altra cosa bro la prima stagione di Summer House è antecedente a un anno rispetto alla prima stagione di Gomorra nelle musiche nei tagli nelle traslazioni secondo me un po' hanno preso la Summer House e Summer House si spacca Gomorra dico la prima stagione sì per esempio Summer House tutte le transazioni quando si vedono palazzi e robe sono solo pianoforte musica d'ambiente roba che non ti aspetti Gomorra è uguale è un trotto che secondo me però posso dire che anche Gomorra è un trotto per me le serie più belle c'è davvero Gomorra è pazzesco è pazzesco bellissimo il capo dei capi l'hai visto? anche quella è fortissima era troppo pesante però anche libro è comunque minchietta cioè sono io c'ho tipo una specie di disturbo dell'attenzione non puoi consigliare il capo dei capi c'è una roba che te la vai a vedere se vuoi vederla a me piacciono le belle storie mi piacciono le belle storie però durano le 40 puntate perché era una cosa rai era antecedente alle serie allora quello ti vuoi dire a me piacciono le belle storie però mi piace vedere le belle cioè mi piace vedere dei bei film a livello proprio di cinematograficamente parlando anche se l'ho detto ah minchietta è un film fra per me anche quello uno dei migliori film italiani gli angeli del male e Renato Valanzasco bellissimo fantastico la bella storia è la mala del Brenta il film io l'ho visto 12 volte forse fra io al posto di guardarmi altri film ho sempre riguardato gli angeli del male c'era anche la memoria se me lo metti te lo giro che sono le battute a memoria quella della mala del Brenta la è chissata un'altra bellissima storia oltre a quella di Valanzasco io pure quella roba tu l'hai vista quella di Maniero certo quello di Romano come si chiama come si chiama qua tu l'ho versato a te forse si chiama Faccia d'Angelo no sì sì l'attore che fa il film Faccia d'Angelo il film si chiama la serie si chiama Faccia d'Angelo di cosa parla? della mala del Brenta la mala del Brenta no? una storia vera di Maniero nord-est rapinatori però è più o meno come anni è dello stesso periodo anche lì è una storia italiana un po' diversa i rapinatori facevano i rapini casino però del Veneto vedi altre storie che magari uno si aspetta sempre il sud ovviamente questa cosa c'era per tutto quella di Milano affascinante di Valanzasco tu lo vuoi un altro po'? no posso allora bro cos'è quello? teniamo sempre alto cos'è? c'è lo? è il sake è il sake è il giapponese senti l'odore senti l'odore già ti fa mi piace sembra forte è forte sì è forte in culo scende giù come i terroni a Natale no? minchia questa cosa è mega razzista fra porco dio abbiamo parlato tre ore di razzismo no io sono terrore che cazzo volete? spaccato non scendo solo a Natale quando scendi? tutto l'anno? tutto l'anno appena ti chiamano penatata sì da noi dura parecchio Natale minchia andavo giù in Sicilia in un odise io sono stato una volta in Senegal minchia pensa quanta gente si resta chiata io di brutto di un'altra periferia scusate no che ha detto che una volta è sceso in Senegal a Natale sta roba la volevo sentire bello era tipo quel periodo lì capito? sotto Natale a dicembre sì tipo tre settimane tra e voi ogni tanto c'era qualcuno che fudeva le robe io ho sempre invidiato sta roba cioè che voi tipo quando ci avevate le festività i regali ma va al cazzo c'è chi veniva chi partiva le famiglie la mia famiglia essendo tutta in Marocco in Egitto capito? io per me l'unico momento era d'estate quando ero piccolo ci buttavano i nostri genitori un anno in Egitto un anno in Marocco poi sta roba è durata tipo quattro anni e poi basta come se ci avessero fatto vedere l'ha detto apposto vanno indottrinati alla cultura e poi vanno hai fatto un po' di estati là cioè un po' quattro bro due in Egitto e due in Marocco quando ero piccolo ti piace più il Marocco o più l'Egitto? eh fra questa domanda ve la fanno tutti per me capito hanno tutti e due i loro pro e i loro contro e pensa a mio figlio fra se io mi sposo tipo con se faccio un figlio con una che anche lei è metà e metà qualcosa cioè io sono metà Marocco metà Egitto facciamo finta prendo una inventati due paesi colombiana e l'altro paese Brasile eh è mio figlio che cazzo di nazionale ho buttato tu un paese così eh ma che nazionalità esce poi come viene definito secondo me è latin trap raga se nasce in Italia è italiano eh ma non c'è la legge del vedi c'è comunque sta stronzata che se nasce in Italia non sei italiano è pazzesco vedi c'è tipo mio figlio che cazzo è è nati in Italia come lo chiamiamo micchia però se è mezza brasiliana e mezza volumina è proprio una fregna no c'è un'alta probabilità sì poi ti può andare comunque male italiane comunque va bene comunque la mossa è fare nascere il tuo figlio in America io mi so che farò così eh c'è la cittadinanza lì chi nasce là pensa te c'è la cittadinanza americana deve essere comoda e non ci vuole un cazzo basta che nasce là sì sì quello sì ci accettano e poi torniamo in Italia c'è una cittadinanza per averne un'altra forse anche tipo in Italia non lo so non so manco se mancino alla base uno dovrebbe avere questo cazzo di problema in tutti i paesi puoi avere tipo dovresti fare un figlio dove e quando vuoi a me non mi hanno ridato il passaporto ancora non posso mancare nascere in America quindi la vedo difficile far nascere io ce l'ho la cazzo mi ha fatto fatica da verci sì eh sì tu hai il passaporto mi ha fatto sudare io ho fatto un fioce a 12 anni sto bene così anche tu c'è un figlio? di 12 anni vincia io non l'avrei mai detto grazie e tu quanti anni hai c'è otto anni mio figlio ah vincia pensa te ma scuola in Viale Monza eh dove? Viale Monza vicino a Loretta sì no non troppo vicino a Loretta tu salendo verso il successo vicino a Corvetto dov'è? no Viale Monza dell'altra parte è zona che non mi abbia Padova così sai meglio te che sei di Torino bro non conosco Milano cioè no io tutti i miei amici me lo dicono perché io sono intrepassato la vita ancora per portare in giro bro quindi non ero attento sulle strade sulle robe adesso ho iniziato a guidare quest'anno bro infatti fra anche per andare a casa mia se sono qua metto il navigatore bro ah abbiamo un imparito lo stesso c'è la patente io non ce l'ho penso patente? no ma sì sì ce l'ho sono un padre di famiglie se no la patente sono messo male io mantengo i tassinari mantieni? i tassinari Uber e tassinari io sono tassinari ho capito che a Milano se chiami Uber ti rimbalzo il taxi quindi mi arrivano sempre i taxi Uber adesso vuole Amsterdam solo Uber lo leggono nel telefono no 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 rimbalzano i taxi arrivano i taxi sotto anche qua mi sa che c'è l'opzione hanno fatto così adesso ah perché ci sono i taxi che fanno pure Uber però ti fanno il prezzo da Uber sì sì ti fanno quel prezzo quella truffa perché ieri sieri ho preso un taxi alle due di notte e stava troppo erosicato perché ho pagato 12 euro e là vedevo tipo il contacoso che era 25-30 quello se giravi io ho pagato ormai portami là e ciao frate che ti devo dire 12 euro ha speso in realtà 28 va bene arrivati ci facciamo la patente quest'anno è fondamentale io ce l'ho l'hai steccata frate io ce l'ho ed mi è cambiata la vita da quando ce l'ho fra veramente bro faccio un posto di roba fatto bene no ma non è giusto ma come cosa? no stavamo stavamo parlando qua bisogna dire le cose apertamente stavamo commissionando stavamo parlando di canne stavamo parlando di canne no falla tu la canna Martin io volevo andare perché noi siamo pro legalizzazione volevo andare a liberare il serbatoio va bene va bene di acqua allora la verità è che io ho fatto un gesto ho fatto un gesto con me salino allora lei ha fatto una canna tipo l'ha accesa mi ha guardato e mi fa io non so perché pensavo fosse mia ma era mia no? no era mia ah vabbè fallo pensavo fosse mia e tipo ma non c'è nessun problema vabbè e tipo l'ho fumata e tipo a un certo punto mi ha guardato mi ha detto tipo no ti ho guardato e ti ho detto bro l'hai visto il regalo se l'hai visto il regalo perché appena se l'era accesa e tipo l'ho guardato e tipo l'ho guardato e tipo l'ho guardato l'ho detto che era la mia capito l'ho capito vabbè scusa ma di che infatti io te l'ho detta come per dire hai apprezzato il regalo come per dire l'ho messa là non l'avevo capito te l'ho messa a favore di perché hai detto io non l'accendo adesso l'accendo fra un po' c'è pure tu ragno sulla mano? si c'ho anche sul petto ragno è bello guarda io il tuo avolo che significato ha sto ragno? ragno porta guadagno penso al kill the snitch per me è quello ragno ragno guadagno ragno guadagno ragno guadagno in mezzo c'è anche il kill the snitch perché allontana le mali lingue esatto la raggatela no le mali lingue le lingue lunghe le lingue lingue lunghe perché l'infame non dice mai la verità comunque giusto bene sto d'accordo qua qua potrei chiudere calcolare qua potremmo chiudere quanto stiamo R.V.M. dalla regia sulla storia dell'infame a partire dai tempi della Bibbia dove risalgono i primi infami dai tempi dell'antica no eh beh della Bibbia dalla Bibbia sì 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 pensiamo a Giuda no? sì 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 Giuda è il re degli infami no? appunto dico partiamo dall'acqua poi c'è Richard Nixon vabbè altri traditori pesanti in chiara fine c'è storicamente storicamente mi viene in mente Buscetta è che però Buscetta ha capito che cazzo devi dire cioè gli hanno sterminato la famiglia è come è come quel six nine capito che tu non puoi dirgli ok cioè ok infame ma non puoi dirgli che l'infame completamente perché comunque c'è con la gente che lui non doveva infamare intanto gli scopava la raga quindi dico i tipi hanno cioè io non è che giustifico l'infamato però non lo definisco un infame totale sì sì ho capito e stesso discorso Buscetta i tipi hanno la nomea comunque ormai io ti dico che ne stai che Giuda alla fine non è che aveva fatto l'infamata l'aveva messa nella condizione comunque 30 denari all'epoca erano sorti veramente si sta rivalutando Giuda magari non erano 30 denari S Magazine 2024 rivalutiamo Giuda no anzi per carità come si è vestito Giuda questa settimana? è scariota questa settimana dico alla fine secondo me ti sono le responsabilità delle tue azioni stai fatto Erti ti sono cambiato gli occhi gli occhi dico così sì no ho bevuto il frenta bombe l'ultima era ti dicevo che avevo lasciato la più grossa per la fine no falla questa ma falla anche più grande io sono andato piano perché tu sei tu fu un mio Sagi? sì fra infatti no però adesso no perché sennò veramente mi spegno ma io poi arrivo a fare due serate di live cinque ore di sonno beh cinque ore di sonno in due giorni è oro no no non in due giorni cinque ore a notte vabbè dormito allora che cazzo è bro si c'è dipende la media mia è tre ore e mezzo o quattro quanto dorme Erti? ma ti dico frate nuovo format di S Magazine quanto dorme Erti? gli ultimi sei mesi poco cinque ore a notte cinque ore a notte va bene però quanto devi dormire? Berlusconi dormiva tre ore a notte io dormo il giusto però dormo negli orari sbagliati tra l'altro una scopava tra l'altro cioè io le tre ore scopava quindi io vivo di notte bro sì eh? sì e però dormo tardi tipo cinque e mezza a sei e mi sveglio verso mezzogiorno sai che io per una vita sto addormentato alle sei eh ma frate sto iniziando a stare ma a non reggere più sto ritmo però ti posso dire una cosa dopo i trenta non riesco a pranzare dopo i trenta ho mollato fra cioè per le due ma smatti quando ti potevi addormire alle quattro si segue alle un no frate io so questa se sento gli uccellini cantare non ti abbraccio che cazzo vivi nel bosco ah no pensavo che ti svegliavi gli uccellini nella testa mica di fuori non pensavo che ti svegliavi con gli uccellini che cantano che cazzo gli uccellini io torno a tornare a dormire rasti nel fantabosco tipo quando mi sveglio e poi dopo ti sento gli uccellini dico ah torno a dormire sto meglio no frate io io dormivo una vita con gli uccellini che cantavano alle sei sette di mattina e mi addormentavo a me ne mostro al piano basso proprio capito quindi se mi sento sono lì nell'albero eh penso io quando sono andato l'ultima volta in Egitto a fare il video fra la mia famiglia vive molto ancora la contadina fra io mi svegliavo proprio con le galline fra proprio proprio capito come capito come capito no vabbè comunque ci siamo capiti no e fra e quello lo sentivi forte davvero perché tutto il paese c'hanno le galline però la devi svegliare però la devi svegliare eh sì fra lì si svegliano alle 5 per andare all'orto bro noi siamo abituati alle macchine ormai siamo abituati a qualcosa minchia l'uccellino ci aiuta a dormire invece lì ti sveglia il gallo buongiorno eh fra i svegli fai buongiorno no comunque quando senti gli uccellini non hai passato la famiglia del pulino bianco senti l'esperienza personale quando senti gli uccellini cantare non hai passato una buona sera non lo so perché? perché no fra cosa vuol dire? che hai fatto l'alba? hai fatto schifo hai fatto schifo? non lo so io veramente faccio schifo anzi ok dormi nel bosco diciamo una casetta nel bosco nel fantabosco siamo io Tonio Cartogno e Lucio Lucio lo lupo Lucio la casetta sull'albero come nel cardano chissà se c'è il bagno sulla casetta sull'albero ma raga ma sapete che io da piccolo ho sempre sognato una casetta sull'albero perché la vedevo sui cartoni era troppo bella bellissima la casetta sull'albero io vedevo quella situazione dove c'erano comunque cioè a me stra piace stare tra amici comunque già quindi poi vedevo che sempre erano lì tra amici sulla casetta dell'albero a fare cose le famiglie felici con il giardino là per me era un sogno minchia mia madre voglia la casa sull'albero pensa mia madre come mi guardava da piccolo bro mio padre mi diciamo ma che cazzo stai dicendo cioè allora che loro non conoscono sì che poi è vero magari capito esatto poi ogni tanto le richieste ti esco le richieste tipo da bambino ricco perché la vedi nei film diciamo io voglio il McDonald dentro casa come Richie Rich ma ti guardano la casa sull'albero ma mi fa ridere perché comunque anche c'è una cosa una richiesta abbastanza stupida che cazzo me ne faccio in una casa sull'albero c'è una vecchia però da piccolo comunque da piccolo una cosa che mi strati a parte noi non c'avevamo il giardino nessuno per dire questo già mio figlio in giardino ha il saltarello quello delle fiere bro quello vero che già è passavanti comunque è già un lusso per me era il sogno io tipo quello abbiamo detto quando abbiamo finito di montarlo in quattro veramente gigante l'avete ma bro ma chi cazzo ce l'ha mai avuto per me il bilocale per me era tipo dicevo no ma mettiamolo qua cioè diciamo compriamo il trampolino lo mettiamo in casa al posto del letto capito il mio padre dice cazzo stai dicendo vabbè però ti posso dire una cosa alla fine da bambino dici non mi serve questo non mi serve il trampolino io comunque ho avuto un'infanzia che se tu la vedi dal di fuori dici che è un'infanzia di merda perché comunque eravamo poveri però comunque essendo nel mio quartiere tutti poveri l'infanzia non era così male nessuno ce l'aveva i soldi quando la paragono io me la sono vissuta così io ho vissuto più peggio cioè che non l'ho tanta sentita solo alle medie ho iniziato a sentirla esatto a 14-15 anni ho cominciato a riscontrarmi con i ragazzini di Roma che avevano i soldi brava e allora dicevamo questo che so sono Nike io ti dirò io ero io ho capito che stavo nella medda sì sì ma perché da bambino non so quando ero felice stavamo tutti senza un euro non c'avevamo nessuno i vestiti di marca quindi non sentivo il peso della differenza poi crescendo ho cominciato a riscontrarmi con bambini casomai che venivano da Roma da quartieri alti e dicevo cazzo io non c'ho niente questi c'erano davvero il tappeto elastico dentro casa io non ho capito io sono il quartiere che è a metà ho capito ho spaccato e quando ho fatto le scuole elementari e medie che è ancora peggio perché direi io sono andato però io c'erano di fronte a casa la mia scuola elementare e la scuola media che tutti anche i ragazzi di zona hanno fatto capito e poi c'era un'altra scuola a un chilometro e mia madre mi fa no vabbè vado in quella scuola vado in quella scuola bro e mi trovo che quella scuola lì era semplicemente la scuola dell'altro quartiere era sempre la scuola del quartiere bene sempre statale sì la scuola dell'altro quartiere solo che bro comunque la situazione era tutt'altro cioè c'era tipo il mio compagno di classe che poi è diventato il mio amico cioè tutto sbatti fino alla quarta elementare poi è diventato il mio amico tipo terzo elementare quarta elementare era tipo suo padre lavorava tipo nell'esercito che faceva il medico e io dico cazzo comunque cioè mio padre ma la pena so che lavoro fa cioè non capisco che cazzo di lavoro fa mio padre sì esatto e mia madre è disoccupata suo padre tipo fa il medico ma nell'esercito quindi non cambia poi tipo io andavo a casa loro magari spaccava la sisola quindi poi a casa mia non ci veniva mai ma perché non li invitavi neanche l'unico che invitavo che lo saluto Alex cioè mio amico il mio compagno di classe rumero che tipo ci odiavamo poi dopo però eravate simili comunque io c'era il mare e mi diceva fa pranzo da perché non c'avevo soldi mi dà anche mia madre con sua madre diceva dai te lo prendi tu è triste la cosa però la realizzi no ma vai io minchia lì per lì sei un bambino non capisci bene la cosa poi comunque crescendo quando cominciavi mi pare di andare d'accordo con tutti in verità perché dici cioè io dico cioè fino a quel momento non andavo d'accordo bene o male con nessuno davvero perché dicevo perché non vedevi simili tipo la PSP vedi tipo in prima media avevo fatto tra mille robe avevo aperto sto negozio in zona che vendeva le PSP le robe usate ed ero riuscito a prendere la PSP con dentro anche io con l'usato c'è proprio un rapporto franica ma io ho il primo telefono ho comprato di tutti il primo telefono al negozio l'ho comprato quest'anno 35 anni mai preso un telefono mia madre mia madre conosceva tutti i mercati possibili immaginabili di usare il tipo dovevamo prendere quella roba lì però grandi tipo le nostre madri senza soldi schillate a trovare cose per accontentare noi per rendercela pari capito come mai madre comprava le Nike false comprava le Nike false per farmi sentire come gli altri no pure Nike però fintica la terza volta oppure usate io ho tante scarpe usate c'erano tipo i negozi dei sudamericani che avevano tipo le Jordan le cose tipo a 90 euro e tu l'hai più accessibile già un po' più accessibile 90 euro perché era tipo loro ti dicevano sì sono qua io non sapevi io guardo le foto di classe adesso di mio figlio hanno tutti un brand c'è anche non voglio dire le marie addosso costose però è tutto sono tutte le marie addosso guardate le foto mie noi avevamo i pantaloni della tuta con le toppe perché se fai un buco metti la toppa era normale però raga non voglio dire è cambiata proprio da questo punto di vista anche io ho notato di brutto sta roba perché un giorno ero seduto al bar così stavo facendo un aperitivo così normale vedo passare questo gruppo di 10 15 ragazzi che non lo so sarà stato il compleanno sai quei compleanni comunque erano tipo lì in finlandiana che attraversavano fra ma io vedevo il bambino con la giacca di off-white giuro su dio cioè che per me ha capito ma era un bambino un bambino piccolo cioè che va bene vinci andati a Nike qualcosa ma comunque off-white mi sembra esagerato noi non ci arriviamo proprio sì capito questi invece hanno già certi brand addosso comunque sono brand veramente costosi è questo fra perché io non savo manco che cazzo è vc ha 12 anni capito i ragazzini vedono tutto fra quel bambino ci avrà avuto giuro neanche 10 anni c'era la giacca di off-white bro ed era originale te lo assicuro perché se gli metti la giacca di off-white penso che gli ha sarei un bugiardo a dirti che a mio figlio non gli ho comprato cose di brand o scarpe sì perché ormai la società è così bro se tu non glielo compri il tuo figlio poi è diverso dagli altri e sta male innanzitutto se faccio questa cosa è perché posso comprargli tutto il resto quindi non è che ometto delle cose perché dobbiamo comprare uno status non compri i libri nella scuola e gli compri una cosa quindi vuol dire che quindi mi sono fatto dei conti vuol dire che me lo posso permettere perché non si sputa sui soldi e questo è una cosa che gli insegno comunque non ha solo quel tipo di roba chiaramente mixa con altre cose la maggior parte sempre ovviamente stilosette perché io ci tengo magari ma basta il monocromo basta un brand e un logo e sei fico nel senso poi i bambini però vedo che lui mi ha detto che altri compagnetti comunque lui aveva tipo è arrivato con una giornata ma mio figlio non lo sapeva cioè non è che era così attento al fatto che avesse non gli dava così importanza una scarpa uguale a mio papà questo era lui perché gli ho fatto vedere che lui l'ho presa come la mia però non gli ho detto è una scarpa non è che gliel'ho pompata io ho detto è una scarpa come papà cioè non è che gli ho detto ha un valore e lui quindi è un compagnetto invece gli ha fatto notare che era una scarpa bella il modello di Jordan comunque era una Jordan giustamente quindi vuol dire che un altro compagnetto della stessa età sa che cos'è quella scarpa e gliel'ha detto a mio figlio quindi mio figlio torna a casa e dice cazzo ho una bella scarpa si amore ma non è importante l'importante è se sei comodo ti piace come c'è quella ne ha un'altra veramente perché poi sfasciandole giocando facendo non è che gli posso compagnare tutte le Jordan c'è anche delle scarpe normalissime magari di cazzo ne so di AICENER cazzo me ne frega da bambino che si anche perché si ma bambino di 3 anni magari ma fra ma finché sono così piccoli non deve essere un problema i bitti sono attenti porca puttana più che altro che aspetti il problema arriverà il problema arriverà quando saranno le medie lì c'era lui che ti chiede voglio questo voglio l'altro e la so e lei inizierà a chiederti vuole questo voglio la scarpa firmata non ha pretese però che ne so la tec della Nike e comunque sono 250 euro di tuta io ce l'ho a mille me ne avete mille e ho detto ok te la faccio e non ho fatto due tre vuole l'Air Force bianca pulita capito perché la avete a meno la vuole allacciata la vuole mettere slacciata come il rondo perché il rondo è il cantante suo preferito capito quello che ti voglio dire comunque è differente da noi io non avevo un cantante preferito a 11 anni non avevo il telefono io però ti dico la verità all'elementare sai con chi cazzo ero fissato fra se ti dico in domina non endurinarai mai fra l'artista per cui andavo fuori fra ma fuori bro all'elementare eh Michael Jackson bro io avevo Facebook avevo Facebook all'elementare e su Facebook mi chiamavo Sammy Jackson bro non ci credo non l'avrei mai detto però lo giuro io andavo fuori per Michael Jackson ma che bella scelta sia musicale mi guardavo i video della mattina alla sera mentre fai i concerti ma proprio della mattina alla sera io calcolo il film di Michael Jackson tu lo sai che devi vedere un documentario che è uscito su Netflix da poco che è il documentario sulla canzone We Are The World We Are The World è incredibile c'è Michael Jackson tra te è incredibile sta là non fa la premiazione degli American Music Award sta là fa la traccia con Quincy Jones aspetta tutti gli artisti vedi questo documentario qual è? non credo si chiama proprio We Are The World poi hai citato Quincy Jones di cui ho parlato oggi a pranzo al ristorante romano anche lì c'è un documentario incredibile su Quincy Jones che tra l'altro il tipo diceva è della responsabilità degli artisti assolutamente tra il tipo visto quel documentario è assurdo cioè Quincy Jones e Michael Jordan sì Michael Jordan Michael Jackson che apparecchiano una traccia e poi arrivano tutti Lionel Ricci che cazzo ne so tutti quanti e fanno sta traccia e là si vede la grandezza di Michael Jackson ma io sono mega fan però è assurdo che io sono dell'88 2000 no no Michael Jackson è stato proprio io ho conosciuto la musica con Michael Jackson bro cioè era lui in mio trattimento lui è in capo per me ma lo ascoltavate a casa ma l'ho scoperto forse perché mi piaceva cioè sai da piccolo comunque ci sono certi nomi che non so ti suonano bene fra tipo Michael Jordan suona bene io mio figlio l'ho chiamato Michael per questo Mike Tyson Michael Jackson io quando sentivo Michael Jackson la roba che mi ha spinto a cercarlo è perché mi suonava bene il suo nome bro la verità cioè quindi poi quando l'ho scoperto cioè da piccolo ero ma è normale infatti io mi sono appassionato di quel rapper perché mi piaceva chi era lui il nome che aveva come si vestiva e poi gli appassionava e tutto il resto capito e capivi che era un king Michael Jackson comunque era un king già dal nome lo sentivi che era che era il capo nella nostra musica come in tutta la fine se fai l'arte cioè quell'ego che deve venire fuori di costruire un personaggio intorno all'artista ci sta nel rap lo facciamo tutti già il fatto che ci scegliamo un altro nome involontariamente è un alter ego frate tutti noi abbiamo un alter ego involontariamente ecco cioè non è che tu metti Sami tu metti Saki capito ti voglio dire è normale credo cioè arti non è cioè è un alter ego di te stesso capito come che poi non vuol dire che è finto è una parte vera di te che esce fuori alla fine dipende poi cioè dipende è come cioè c'è quell'attore che rimane incastrato nel ruolo quella è una cazzata no io ti sto dicendo che ci sono quegli attori che sono incastrati nel ruolo secondo me nella musica per evitare di rimanere incastrato nel ruolo è o costruirsi più identità quindi o essere te stesso ti avrete risolto il problema però sì esatto o comunque sei il più possibile esatto o se no sei il più possibile te stesso e cioè col tempo ti conosci alla fine capito quindi non lo so secondo me cioè per gli artisti piano piano è sempre più ti avvicini a essere quello che sei non so per un attore diverso per quello che dico un attore finisce in quel c'è stanno tipo chi è l'attore che ha fatto Joker Joker in Batman chi? il treasure è morto per il ruolo che ha fatto sì sì è grosso dire che è morto solo per quello che non abbia influito non credo proprio per me ha influito molto ha fatto il ruolo del Joker in Batman è un ruolo che comunque tu per mesi studi i comportamenti gente che ha problemi demente in carcere si andava a vedere i video e Jack Nicholson che l'aveva fatto negli anni 80 lo stesso ruolo gli aveva mandato una lettera che ho scritto occhi a quel ruolo perché io c'è stavo arrivare ma tu tralascia anche soltanto e poi il tipo si è ammazzato si è suicidato dopo che ha vinto mi pare l'Oscar è una brutta storia ha vinto l'Oscar no non l'ha ritirato eh ha vinto l'Oscar da postumo lui dopo il ruolo si è ammazzato ha fatto l'ultimo film Parnassus dove non è riuscito a finirlo perché si è ammazzato e l'hanno sostituito mille attori e poi tra l'altro quel film è proprio il giro si è chiuso un ruolo però per fare Joker veramente si era chiuso mesi e i manicomi criminali studia filmati di gente che stava veramente fuori di testa infatti nel film è eccellente la performance fa paura ma poi però alla fine cioè tipo lui è un esempio secondo me anche c'è peso forte capito però ci sono cioè ci sono esempi magari di quell'attore che per tre quattro ruoli interpreta magari anche una persona tipo proprio guarda che varia al pacino quella che non si che ne so ma esatto è difficile che ne so fanno una commedia capito come vita sfrenata perché uno ti dice ah minchia tu spacchi per questo ruolo quindi tu magari ti convinci si invece sei il ragazzo tranquillissimo che è stato scritturato per quel ruolo non sei fai cinque ruoli perché in quel periodo della vita sei sei quel io per dire sei quel personaggio personaggio che perché ti ha dato bene quel film c'è cresito però c'è un romanzo criminale ma in Italia abbiamo dei personaggi che hanno avuto dei ruoli solo di quel tipo l'altro anche Tony Servillo è tipo cioè Fredè ma guarda pure un Jenny Savastano è difficile guardarlo in un altro ruolo però ci sta vederlo anche sì ci sta e spacca perché è un attore della Madonna però comunque per me sarà Jenny Savastano cioè lui secondo me è capito esatto ci ha capito ha fatto quello però è tosto fra perché c'è il personaggio che lo chiamano però ma non è mai facile in generale togliersi comunque un'iconicità così grossa no perché quando perché il personaggio supera l'attore comunque tutti i personaggi pazzeschi carismatici cioè alla fine il tipo può essere solo carismatico se interpreta tutti i personaggi ma il tipo è un dio però il personaggio ha superato però è un dio perché è come Scarface col pacino capito però il trasformismo dell'attore lo legherai per sempre perché quella roba è talmente iconica che tu non riesci a vedere in altre versi cioè comunque cioè secondo me anche nella musica è stato tanto per tanto tempo come dire trovare un'identità però come dire è estrema quando in verità secondo me è semplicemente trovare la propria identità e poi dire ne vale la pena infatti stavo dicendo il trasformismo dell'attore ti permette di essere chi vuole tu devi essere per forza te stesso a un certo punto puoi essere anche bravissimo a costruire quello che vuoi ma anche andando avanti poi nel tempo c'è stando però attori che si chiudono in quel ruolo e non escono mai più e finisce ma anche il tipo di Peaky Blinders capito mamma mia quello è troppo un king un personaggio che è Peaky Blinders l'hai vista? si però non l'ho finita non l'ho finita se lo prendi se lo guardi per me sarà sempre lo psicopatico hai capito quando fa quello però poi fa Titanic e spacca il culo però è lo psicopatico che è un grande capito no ma non era detto tipo no no è lo psicopatico che è un grande inteso tipo cioè lui anche se ha fatto lo psicopatico anche se ha fatto tu comunque ti ricordi in verità che lui è sempre il protagonista è sempre il personaggio e non c'è mai un ruolo in cui non è il protagonista no non c'è mai quello che sbaglia e poi la roba se non è in grado di fare quella distinzione negativamente sulla sua vita capito quello è sì come è successo a The Ledger esatto mentre invece però The Ledger è arrivato proprio al come dire poi lì c'è all'estremo non so come dice poi però non è che era solo il ruolo pure lui che era borderline per carità però quello gli ha dato per me secondo me fare quel ruolo gli ha dato il colpo di grazia sì 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 perché comunque non è più non è più uscito da quella cosa non lo so è un parallelo che con la musica si può fare sotto comunque vi giuro non pensavo che facevamo una puntata così seria e mi è piaciuta troppo sta roba anche a me mi è piaciuto conosce saghi mi è piaciuto conosce meglio arti perché eravamo conosciuti solo superficialmente sono stato contento di avervi qua pure io sono stato contento di fare questa quarta minutale ora sarà amaro per i ragazzi no però vi posso dire una cosa amaro oggi io spero che taglieranno meno possibile sono contento di avete qua grande grazie di essere venuto saghi grazie di essere venuto arti è stato un grande piacere da paura questo è take away un bacio a tutti rastichilo ansi grande ragazzi brava 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 la new the new generation i nuovi bianchi nel prossimo episodio ora però subito si è straiato tra birra e canne jack la furia dicca dicca